I pezzi miei docks A dei 7 e cuore Devo fare got simulator a quest'ora ragazzi Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno Oggi mattina speciali Caffettino Ma Fate scherzi ragazzi Oggi andiamo a leggere i vostri video Adesso perchè non dobbiamo un cazzo da fare Ma sapete una cosa ragazzi Voglio fare uno scherzo a Kevin Bella bella bro Voglio fare uno scherzo a Kevin Perfetto Spero che non mi sente Ma tanto quello la russa Talmente tanto che manco si accorge Che è la trema terra La Ci sta Kevin ragazzi Sta dormendo È vero Ma Lo sveglieremo Noi Quindi Dobbiamo svegliarlo Ma Talmente brutto Di essere Una sveglia che quando si alza dice Porca puttana Chi mi ha fatto fare Bella rica Bella tuttina Mi agisci Certo rica Tanto faccio la parola Pietro Oh Hai scaricato Worson Comunque dopo facciamo qualche patita Valorant Tanto oggi Abbiamo ancora 9 ore 50 di live Che dobbiamo ancora allungare con i minuti Quindi Mamma mia Allora rica Casa è la parola Quindi mi raccomando Scrivete Casa Per essere reagiti Regà Reagisco a tutti Bella Bronto Bella simone 14 YouTube TV Attivate la campanella Per essere agiti Eh ragazzi Non ci vuole assolutamente Niente Assolutamente Nada Ok regà Aspettate che metto la chat Eccola qua E oggi non posso Mi dispiace Sono normale Ah vabbè Tranquillissimo Allora Casa ha vinto Bronto Giuse è un pad Quindi andiamo subito A reagire Regà Quindi vai Regà Mi raccomando Condividete questa live Con tutti i vostri amici Perché così Possiamo divertirci Tutti insieme Bitch 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 Vai Mettiamo un schermo grande Bella regà Ehi Wow Yeah Ehi Yeah Aspettate L'audio in uscita Ok Perfetto Fammi mettere le cuffie Ma Devo andare al mare Per favore Dopo mi agisce a me Eh Faccio a parole Regà Tanto siamo in quattro Quindi tranquilli Microfono Cosa microfono Non mi senti bro Possibile Non mi senti Vediamo qua che fa Bravo Mi piace la mira Che bella mira che c'ha Mira da urlo Bravo Microfono Microfono Della Razer Serene X E pop up Ci è arrivato Ieri L'altro ieri Grazie Senti che Ah è vero Non si vede Giusto ragazzi Ottima osservazione Ecco Questo potete vedere Che io non ho dormito Si vede Da questa cosa Che io sono molto intelligente Scusatemi tanto Dai Fatti scherzi Scusate tanto Regà Che veramente Non ho dormito Tutto rincoglionito Questa è praticamente Era la intro Ok Bravo Che mira che c'è Che mira che c'è Che c'è Credibile C'è una mira Che Se non fa 200 Se si sente male Scommetto 36 36 Bravo Che bestia Ragazzi Che una bestia Regà condividete la live Mi raccomando Scrivete che lo fa Che salta la fila Se lo fate Quindi te Fra ieri YouTube Se puoi saltare la fila Condivida la live Con tanti amici Schemi Con quanti li condivisi Poi vediamo Se entrano Paddino E beh regà Qual è il problema Anche io gioco La pad La pad Regà La gente Può essere Super forte Solamente Che la media È leggermente Meno forte Di MK È normale Molto è forte Bro Sono stato il primo Se mi vuoi bene Mi raccisci fast Non te ne pentirai Frate Ho chiesto Se condividi Con i tuoi amici Te regisco subito Non c'è stata la fila Roba che non ho mai fatto Bravo Complimenti bro Vediamo qua che fa Ha addirittura col pompa Ragazzi Attenzione Che boss delle torte Madonna Con questa scherza Bravo bravo bro Cioè regà Troppo figo Vediamo qua Bravo bravo Complimenti bro Gigi Ottima mira Veramente Complimenti Andiamo subito a commentare Gigi Bro Hai Una Mira Eccezionale Continuo Continuo Così Eccezionale Con due z Non si mette In coglioni Do Scusate Grazie mille di che regà Schiviamo la prossima parola Gatto La prossima parola Ehi 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 Vediamo quello schiave primo ecco quasi miglior 14 di fuori ama e se si riusciti tutti ma sono solamente due gatti che vince lui come mai ragazzi vi svegliete così presto la mattina simo 722 iscritti eccolo qua buono gg andiamo al suo video c'è lui oggi in pratica che hai fatto cizzi stamattina alle 5 non ho dormito bravo bravo mi piace come è di di frate veramente complimenti c'è sicuramente tantissimo bene un sacco bene musica con gli spari bravo bravo c'è gli ha dato il video un sacco bene complimenti bravo bravo mi piace mi piace un sacco sui complimenti però attenzione ma che ping c'hai zero frate incredibile madonna ma che è una bestia complimenti bro complimenti bellissimo video ping 65 la madonna assenna bestia bro bro gg bro sei una bestia bestia aggtg che è il tg bravo complimenti bella luca gamer 09 iscritto ricambi no ragazzi se vi iscrivete per essere ricambiati no rega io aggiungo solamente video non voglio iscritti fake ragazzi comunque allora scriviamo la prossima parola rega lasciato per un bellissimo like se mentre c'è sta solamente un like mi puzza un pochetto questa cosa allora prossima parola è detto per essere reagiti ragazzi lorenzo baracco ciao pro mi raccomando iscriviti rega ogni iscritto rega dobbiamo aumentare di 10 minuti il time oh my god 10 minuti un botto rega 10 minuti che si si iscrivono in 5 cioè in 6 e un'ora mamma mia ragazzi mamma mia noi siamo pazzi matti fratici matti 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 siamo a tetto simulure 14 tv vai eccolo qua di nuovo lui ragazzi ci sta qualcun altro che ve lo posso reagire che no dopo sempre lui nessuno ma non ci si può subare vai 10 ok bro adesso li aggiungo vado a controllare vado a controllare ragazzi ok ragazzi è vero dobbiamo aggiungere 10 minuti quindi ecco qua fatto ragazzi aggiunti se non ci sta nessuno video e lights 1 ok bro ok ok rega mi raccomando condividete questa live con tutti i vostri amici mi raccomando questa qua ragazzi sapete che è una maratona di 24 ore io non dormo da stasera infatti sono tutto lingoglionito mamma mia ragazzi la schiena che mi fa male highlight 1 1 io vediamo 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 allora ok l'avrà già reggito ma sicuramente non ragazzi io io ok bravo 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 ci sta ci sta dai questa è figa la sta grippe è fighissima bravo io vuoi sì in a ehi luson se brittà i a i a sa io i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i i i due cannoni non è musica brutta uguale torna a casa questa merda non vi salva e chi conosce giganti di jimmy dice ragazzi per favore che in chat io che ha usato a rubato il bit da questa canzone non so come hanno fatto a non accorgersene però yeah yeah thanks for watching grazie a te bro presentate il like con me allora guarda questo video qual'è quel video allora partiamo che avevo già commentato bellissimo video di siano guarda questo video è ragazzi si fa parola quindi adesso io scriverò fiore come scrive fiore lo sapete ormai già come funziona ragazzi è semplicissimo forse che ragazzo a tutti l'importante vi iscrivete attivate la campanella poi regala cosa bella che se condividete questa live con tutti i vostri amici ogni amico che fate iscrivete sono dieci minuti in più c'è in pratica condividete con sei amici tutti condividete con sei amici un'ora in più c'è in pratica se volete vedeteci schiattare dalla lorenzo ok lorenzo barrazzo andiamo a rendere subito barra con lorenzo barra comia quando scrive diventata la campanella se volete essere agiti regato poi c'è un po di horror di che i minchi pari cose così così bella rega approfitto che siamo in cinque dobbiamo svegliare kevin ragazzi in un modo assurdo dobbiamo tipo farlo spaventato roba strana rega ditemi voi dei consigli su come svegliarlo senza acqua in faccia ragazzi troppo classica 28 aprile 2019 ciao lorenzo auguri buona pasqua buona domenica ho ricevuto il messaggio di auguri anche a voi a te e a maria me la saluti buona pasqua a tutti arrivederci vedi come mando io i messaggi bella gamba ciao scherzato arrivederci auguri vabbè dg aspetta no 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 ok bro il link frate te non puoi inviare link che non siamo trattore bella rega iscriviti a tetracamponello con iscritto in più ragazzi dobbiamo aumentare di 10 minuti il link devi vedere frate non mi mi ha inviato nessun link non posso i quelli che non sono modi non possono inviare link mi spiace non fa niente bro se mi devi far vedere un video non è tuo no tranquillo sasso una nuova parola rega rega dai trovate un metodo per svegliare kevin in un modo che proprio brutto nel senso tipo traumatizzante l'altra volta che ho messo il gear rape nelle orecchie spero che riconoscete no il rape in pratica sono questi ragazzi ora vi faccio sentire sentire vivi con i tuoi vivi con i tuoi no frate questa questa qua la vlog house come vedi qua sta di vita stasso che minchia di la cuscina allora da parti scherzi acqua cosa acqua sasso detto ragazzi siamo in 5 non volete fare la parola non buono vediamo il programma che cosa dice a quest'ora dalle 7 alle 8 dovrei giocare a got simulator rega quindi devo scaricare got simulator perché non mi conosce un gioco super divertente ti scassi dalle risate allora ancora lui mamma mia ragazzi sempre lui rega e vabbè se volete sergi mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella ricorda rega dobbiamo trovare un metodo per svegliare kevin allora anzi lo scrivo proprio sullo schermo aspettate eh ok perfetto ora va già va meglio ora già va meglio perfetto no perfetto ragazzi ora già va meglio va molto meglio così ragazzi molto meglio molto 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 meglio quindi rega ricordate dobbiamo trovare un metodo per svegliarlo aspettate ti guarda che roba che ho fatto anche chi è che lo riesce a farsi così soltanto io ragazzi credo in number one mettiamo nero ok mettiamo ok ok perfetto ragazzi buongiorno comunque oggi e domani no ti hai già editato bene ah attenzione 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 facciamo prova non rivedere con l'acqua con l'acqua no con l'acqua no però si ci sta in live la faremo la faremo visto che dai facciamo un'altra parola visto che entrato se entrò te ok vai ah ragazzi in pratica la nostra routine che c'eravamo già preparati dice che questo avremo gioco a got simulator barra dovremmo svegliare che però lo sveglio alle otto e mezza dobbiamo farlo riposare ora ciò là dopo esterico tutto spacca tutto gatto nice ma lo riguardi cosa rega tu vedi tu ma metodo per svegliare cane ah è la cosa principale in questo momento niente rega non lo trovo sicuramente quella n grande tigra eccolo qua si te lo riguardo bro non ho un problema tigrande n grande dai io così si è eccolo qua go stupid go crazy go motherfucking yeah andiamo 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 da un altro pubblico montaggio eh vediamo se mi piace devo essere sincero nel senso edito un sacco bene i video sto vedendo ultimamente un sacco di gente edito un sacco bene i video gg sono contento bravo 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 gg madonna rega edito un sacco veloce no vabbè frate mi piace troppo comandito del video troppo bello lorenzo buracca scusa ma perchè la live è cominciata da 8 minuti c'è scritto 9 ore e non 24 broski broski allora non hai capito io non è che ho fatto non sono 24 non sono 9 ore di live io sono 24 io la live di prima ho dovuto fare 2 perchè non posso fare una live continuo di 24 ore perchè dopo che cosa succede crasha quindi ragazzi ora vedrete fra poco che si caricherà la live di 16 ore che ho fatto prima l'ho staccata e l'ho fatta partire quest'altra che se faccio 24 ore tutte le fila il problema è che dopo non me ne carica capito ecco il problema però no rega affidati è così l'ho dovuto ricominciare per forza dopo non me l'avrebbe caricata sarà di 24 ore bravo credo che ci sono stato 8 o 9 ore ma non di fila grazie mille bro allora bell bellissimo video bro bellissimo video guarda dai oggi sono in live ecco qua è infatti è diventato veramente bene pure game non lo pensavo ok rega scriviamo la prossima parola noi possiamo giocare chi è rega warzone valorant con un gioco rega qualsiasi gioco tranne fornet non me va ragazzi vediamo un attimo che sveglia quest'ora warzone bella bro scrivete la campanella si dopo giochiamo warzone insieme se volete vediamo se qualcuno è attivo a quest'ora no 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 questo nemmeno ma nessuno è attivo ragazzi no sono tutti a fare la nanna no rega vi devo vedere svegliavo eh non va bene così bella giacomo beferino bella teo bella a tutti ragazzi ricordo rega che se vi iscrivete aggiungiamo 10 minuti quindi se vi iscrivete tutte e mezz'ora di tempo in più nella live mamma mia rega io non voglio scoppiare ragazzi io non voglio scoppiare mamma mia ragazzi poi rega se condividete la live con 6 amici vostri tutti con 6 amici e si iscrivono rega sono un'ora per ogni 6 amici rega un botto di tempo ragazzi è incredibile è incredibile quindi rega forza vi iscrivete che ti ha dato la campanella che adesso leggiamo il video leggiamo il video poi ci divertiamo dopo giochiamo insieme serpente balleri parliamo insieme rega poi andateci a seguire su instagram trovate il link in descrizione adesso saluto gli ultimi due che ci hanno seguito rega se volete essere salutati pure voi mi raccomando andateci a seguire intanto ci sta il link in descrizione allora ragazzi adesso salutiamo gli ultimi due follower quindi gli ultimi follower sono tina e bornaldo federico grazie mille ragazzi per averci in sede a seguire vai mi raccomando seguiteci pure voi se volete essere salutati allora serpente mangia 6 btv ah fratello da tanto non ti vedevo tanto di una settimana però è comunque tanto una settimana è il boss stars ce l'avevo ragazzi però l'ho eliminato cioè non è che non ci faccio tanto hai lì su una di tisbimi e vai che fa non vedi certo covidi like metti schermo grande e via insieme vai vediamo bravo 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 possiamo giocare a cosa bro bro stars non ci gioco molto fratello non ci ho non l'ho eliminato io sincero però non lo posso scaricare però non mi va bro non mi va andiamo madonna e si da bene ho preso il mandi ho preso il mandingo amico ha preso il mandingo amico what non capisco ti dico già subito che la canzone è get your moon lagga lagga è impossibile regà non sta laggando questo lo dì che inventate forse sarà successo prima ciao dizzi come sta dizzi bello di che ci racconti ragga fra poco svegliamo Kevin dovete trovarci un metro per svegliarlo molto cattivo ci sta scritto sullo schermo quello che propone l'idea migliore verrà attualizzata mi raccomando regà ora è originale eh bella regà mini world no manco quello guardi il mio certo regà presto i reggiti basta iscriversi attivare la campanella non ci vuole assolutamente niente regà se li fa di iscrivere 6 amici ognuno lo condividono 6 amici li fa di iscrivere che è un'ora in più di live regà da morì quindi anche un amico regà 10 minuti un botto di tempo regà comunque quindi regà condividete questa live forse regà pure se volete saltare la fila vado su code io gioco dopo su code bro eh tranquillo andiamo subito a commentare andiamo subito a commentare gg bro bellissimo video continuo così perfetto ragazzi andiamo subito a scrivere la prossima per ora non sento niente eh forse dici il volume della canzone vabbè dopo lo alzo regà mi raccomando c'è tu per un bellissimo like eh erba quella che si dai in giardino ragazzi iniziare super tranquilli grazie buona live grazie mille bro bella te bella te ok allora aspettate ragazzi alza un po' il volume di uscita almeno così dovreste sentire dai cattura audio in uscita ah raga ora dovreste senti bene il video non troppo alto però manco troppo basso hai una cassa? si vabbè ne abbiamo tante tante quella che abbiamo adesso installato la postazione sono le logiche hg 560 col subwoofer da 240 watt niente male erba e attenzione guarda che lo scrive con la e perchè non vuole problemi allora andiamo a vedere darsi 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 non darsi 2 darsi scusate battuta di merda mi raccomando bro iscriviti e attiva la campanella mi alleno con il mouse dal sere diventa un narsino voglio dire questo voglio dire questo durava troppo quell'altro scusa allora metti la canzone trip tripaslowski al massimo e metti nel letto ok ok mi piace mi piace mi piace provo le gasse il cuore sviladuto e vicino una volta l'abbiamo messa al massimo a volte si sono caduti i pietti in cucina non stava a scherzare quello è il problema poi vediamo quel cazzo no forse è un'altra cosa qui mi piace mi piace i pietti da questo canzone aiii aiii fatti rica ecco rica funziona a tutti eh Il Falosky è un reggine angolica, però voglio altre idee di capire Voglio altre idee di capire, voglio altre idee Con questo che non lo dobbiamo fare, non posso dire l'altra cosa Dopo che ho fatto anche a me, che è qua, sta qua, rica Idei originali, quella migliore, più cattiva originale, vince E la farò Sì, veramente, un bel video, ha detto un sacco bene se il video sia proprio qua, guardate che roba Sì, ragazzi, sono passate da Mk, basta Complimenti, bro Complimenti, bro Mi raccomando, ragazzi, iskipediette della campanella, grandissimo, fratissimi, mo la madonna Sono un botto contento, guardate che c'hai questi fan, sono un botto contento per te, veramente Gigi, bro Sei un sacco bravo Non fermarti mai Continua Così Che diventerai un bravissimo Youtubers Bella, bro Non ti fermare mai, mi raccomando Che se ti fermi Dopo Perdi tutto Fidati È così, vero, ragazzi, è così Mi raccomando, rica, è uscito per un bellissimo like Io ho studiato Cioè, non sono molto bravo in matematica Ma so che 9 È più di 6 Cioè Come mi spiegate questa cosa? Cioè Ci manca 2 3 3 3 like E lasciate un like, cacchio Oh Tiate pure la campanella Allora, scriviamo qua Asta È la nuova No Seta Nuova parola Vai, vai Sono molto curioso, ragazzi Raga, altre idee, altre idee Leggete questa cosa qua Io non posso dirla all'altra voce Perché ormai lo capirete Comunque, ragazzi, se perdete la parola State tranquilli Faccio una Ogni 2 Minutes È già, ragazzi Non ti dico fermo, dei fratellini No, ti dico fermo, dei fratellini Ok, Darsi Eh, Darsi ha vinto di nuovo, raga Non so se posso farglielo di nuovo a lui Ah, mamma mia, ragazzi Quello Gensurino Quale? Chi, raga? Quando? Chi? Dove? Quando? Perché? Ma chi? Quando? Dove? Fratelli, dove? Chi sta a dire? Oh, fratelli, no Cosa? Chi? Eh, raga Ah, chi? Faccio Faccio un altro video di Darsi, vai Andiamo a vedere un altro video di Darsi Raga, un like Manca un like Siamo per il precio Arriva a 10, raga A 10 Penultimo Eh, fratelli, l'ho già visto il penultimo Allora Allora Penultimo 9 Con quello con più views Party girl Mmm È vero, raga Prima stava sul pad Madonna, c'era, sei passato dai make up veramente E sei diventato così forte Che best C'è meno di due settimane, raga, eh Beh, voglio dire questo Aha Questo di nuovo gli devo, ciao a te, raga Ti dico un po' il nardo, ciao, bro No, raga, dai, no, no Si deve dire bene i live, ragazzi Poi, raga, mi iscrivetevi al campanello se potessi agiti E poi, raga, con le iscrizioni sono dicendo di più di là Poi, raga, con le iscrizioni sono dicendo di più di là Poi, raga, non mi vede questa live, per le iscrizioni di più di più Non è vero E' qua da parte, ragazzi, eh Sei simpata dai make up, non guarda dì E' qua da parte, ragazzi, eh Stai simpata dai make up, non guarda di E' qua, brava E' qua da parte, ragazzi, eh E' qua da parte, ragazzi Eh, sembra dare me che apponga, guarda di No, vabbè Bravo, non tessi Raga, dopo, vado, vado, qua, chiameremo gli schitti e darvi buongiorno Oggi fate amico Non lo so forse si forse no Ci dobbiamo insare Comunque se lo facciamo lo scuriamo Perché non possiamo farvi vedere Che cosa c'è che sta dietro ovviamente Dopo veniamo bannati Gigibro Gigibro Bellissimo video Bella rega mi raccomando iscrivetevi a teatro campanella Bella Robo Eddie Attenzione Robo Eddie Voglio farti dire una cosa Guarda che cosa ho nascosto qua Tiè Questo è per te fra Ancora non è stato riempito Un eureto ce lo dai pure no Un eureto Riga unici come ho già detto prima È più di nove Non va bene Non va bene Cioè ragazzi ma pensate che mi prendete in giro Mancano i like Dovete lasciare i like Baby Ah Ah Grazie Adesso possiamo continuare Allora scriviamo la prossima parola Ed è casa Dove sto Io sto A casa Tu dove stai A casa Ok basta Scusate ragazzi Non volevo Rompervi i timpani Gli spiace molto Riga casa è la nuova parola Vediamo chi scrive casa Knights Eccolo qua ragazzi Eccolo qua Eccolo qua Campione nazionale Attenzione Knights Ho imparato Ho imparato a buttare Non ho capito che cosa è scritto Robo Cioè è scritto una roba strana Ho imparato a Buttare Ma non lo faccio Perché Dono Bravo Perché sono Ah Infrata a buttare No frate Non lo fare Non lo fare Non lo fare Non lo fare Però Se vinco però Lo posso fare vedere Un mio amico Certo però Se ce la fai Fallo pure scrivere Che così almeno Ci vede anche lui Ok Cos'è stupido Ah Io lo devo rivedere Però Il problema è che c'è Se è solamente questo Non posso Dai C'è solamente questo Dai Schive un'altra parola Ragazzi Un'altra parola Carota Ehi Ok 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 Non è Adesso che siamo Un bel po' Riga Vedete questa cosa Scritta qua Dovete trovare Per svegliare Kevin In modo Bruttissimo Cioè Ad esempio Buttare L'acqua addosso Però è poco originale Quella dove Vede è ancora più originale Che ne so Mettegli Uno scapello sopra Fare Un pot All'usiasi Di pot E danno Estata Che cazzo Ne so Riga Vede E' geniale Sta tormento Eccolo là Ragazzi Vi prego Dovete dirmi Le idee Le più originali Che vi vengono E fighe Che posso Dipendere dalla live Riga Mi raccomando L'idea più originale E più Facile Da realizzare La farò Quindi riga Dovete Trovare Le idee Per svegliare Kevin In un modo Dei catti Arribile Però devono essere Sia fattibili Sia originali Che super fighe E Cazzi Proprio Di merda Per Kevin Mi raccomando Eh riga Secchio Secchio Non è originale Ragazzi C'è nel senso Tutti L'avrebbero fatto No Buttite Le No No Questi due Non mi piacciono Dovete Spronare la vostra Fantasia Forse Riga Tanto Riga Abbiamo ancora Dieci minuti Riga Dieci minuti Trovate Tutte le vostre idee Cercate su internet Che anche Non so Ragazzi Quello più bello Sarà premiato Vediamo un attimo Chi è lui Vediamo la sua immagine Ma che Dov'è Tipo Wtf No riga Non sto Non sto capendo Cioè io Come faccio a cercare Federico Bornaldo No Guarda i video Di Lude Che è un amico Ok 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 Fratello Ok Guarda i video Di Lude 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 Metti Un allarme All'orecchio Eh L'altra volta Riga Gli abbiamo messo Gli Ear Rape All'orecchio Cioè riga Roba che Li ha persi Non so se li riconoscete Fatica L'ear rape Ragazzi Si Non li conoscete Sono questi Perciutenti al volo Pronti tre Ah vede capito ragazzi Roba così Tutta stonata E stava per morire Riga Quindi un allarme Sarebbe già ripetuto Metti la panna Ah questa qua è bella Perché non ho la panna Potrei utilizzare qualcos'altro Riga Voi sparate cosa Riga Lude Come si scrive Fbi No questa qua Geniale Fbi Open up Mi piace un sacco Ragazzi Bro Non lo trovo Così Lude E bra E fra L'ho cercato Lude Eccolo qua Lude Grande Non lo trovo Eccolo E' lui Per forza si Lude E' questo Cercevo pure 14 iscritti Io mi chiedo Ma che ho fatto Questo qua 14 iscritti Vuoi io Oh Eh Mettimi mod Che ti mando il link E poi levami No Dai dai Non è nudi Così Il link Il mod Non ci posso mettere Nessuno Purtroppo Dai riga Facciamo andiamo avanti Escriviamo Cesso Quindi riga Forza Idei originali Da quanto sei Live ragazzi Sono in live Da Più di 17 ore Si In pratica riga Voi dite questa live Che è iniziata Da 39 minuti fa Perché io non posso Fare una live Tutta intera Di 24 ore Devo fare 12 ore e metà 12 ore e metà Perché dopo Ci mette troppo A caricarsi Tanto che ci siamo scordati Quindi lo do da staccare A 16 e 40 Quindi questo è il tempo Più o meno Che mi manca Aggiungendo gli iscritti Riga Dovete trovare Idei geniali Leggete questa iscritta Per speciare Kevin In un modo Bruttissimo Cioè si deve proprio sentire Il merda Capito raga Quindi forza Allora Cesso Ok Guarda Dream Night Ok bro Raga mi raccomando Iscrivetevi tutti Ti ha la campanella Ogni iscritto Sono 10 minuti in più Di live Quindi raga Se condividete la live Con 6 amici Sono circa Un'ora in più Di live Un botto Raga Quindi mi raccomando Condividete Scrivete quando avete fatto Raga Dai FBI open up Guarda Mi piace un sacco Forse lo faccio Mi piace un sacco L'idea Geniale 6 ramp Di triple edit La madonna Che best Che best È una best Ragazzi Lo sapevo Bravo Donna raga Che edit Che fa questo Madonna Ma c'è una mila Che è Wow Fuori dal comune Raga No vabbè Raga Ma che edit Fa Non ce ne capisco Niente Ma che staff Fa questo Ma proprio Eddit Con la speed E la madonna Raga Una best Questo Ok ragazzi Siamo Di Ben 9 5 4 Iscritti Mamma mia Devo aggiungere 40 minuti Ma siamo Seri Oh Shit Poi Raga Dopo Dopo Mi scordo Ma che best È No vabbè Una best Ma chi è Questo Ma chi è No vabbè Che Una best Proprio Passiamo Allo Speed No vabbè Raga Questo Qua è Una best Fatemi Aggiungere 40 minuti Ragazzi Debiti Quindi Vai Ok Ok raga Aggiunti Aggiunti È un botto Ragazzi Macro È stato In shot Raga è un botto Condividi Da live Raga Con più Skit Abbiamo Di più Allunghiamo La live E dai Ragazzi Vola Mamma mia Ragazzi Ragazzi Mamma mia Che pump Rarissimo Fare 100 Capirai Sono Devo fare Un video Dove Faccio Sfinire Il più forte Del mio team Figo Certo che lo devi fa Mi prendo Bella bro Certo che ti agisco Ragazzi Quindi vedete Questa è la Tutta I cosi amici Adesso Vi sono Per Provate Per Vedere Questa Cosa Qua Dobbiamo Trovare Un modo Per Sfigare Kevin Nel peggior Modo Possibile Eccolo Qua Però Cose Originali Ragazzi L'idea Più Originale È Che Mi Piace La Outwear Ragazzi Quindi Mi Raccomando Idei Originali Verrà Premiato Verrà Premiato G Bro Mio Cervello È Esploso Con Tutti Questi Edit Veramente Sei Una Bestia Complimenti Bro Gigi È una bestia Regà È una bestia Questo qua È proprio Una bestia Esploso Manco so Come si scrive Dai Viva la grammatica Italiana No Regà Non ce l'ho Ma io sono Ok Sì No Regà Non avete capito Quale Sfida Cosa Il megafono No Regà Il megafono No Purtroppo Cioè Cazzo Ci faccio Un megafono Sinceramente Regà Non ci faccio Niente Bella Jinx Mi raccomando Regà Lasciate Per unissimo Like Bella Creazione 60fps Mi raccomando Iscrivete Divettate La campanella Ho aggiunto Finora 40 minuti Che si sono Escritte ragazzi 44 persone Quindi Forza Vediamo Chi si iscrive Ancora Schiede Quando Ho fatto Quando Avete fatto Bella A tutti Ragazzi Bella A tutti Fiore Ha vinto Fiore Alfregno Ha vinto Quindi Quindi Andiamo Subito A regirlo Ok E vabbè Non ho fatto Copio Sono io Uno stupido Copio Please Ci sta Ci sta La tua Ragazzi Uno Ha avuto Un'idea Geniale Ha pensato Di mettere FBI Open up Che ci sta Un bot Ragazzi Freda Aspetta Usa il mio Secondo account Principale Dai Non ti posso Vedere così Ti voglio Tondi Tondi Oh Alleluia Dai E 50 Ci siamo arrivati Primo passo Molli Andiamo Vedete Subito Molli Dai Ragazzi Dica Ma Ma Chi è Chi è L'altro Chi è L'altro L'altro Non lo so Ragazzi Io Non lo so Se La rinchi Vi la mano Di stuylo Guarda 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 I'eri Ma Stia No Davvero Ragazzi Faccio Fortuni Non ce l'abbiamo Fortuna A Quale Non ce l'abbiamo Sincere No Non ce l'abbiamo Sincere No No Non 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 Prova, posso usare il corpo salto Prova a finire cosa, manca la panna E' complicata Dove c'è il sapone, c'è un po' Perché le maniglie Ci sta, ci sta Le maniglie Mi do due tipi Mi è uguale, bianca, del molo Ci ci vuole, schifo Mi è uguale Brava bro La piena di questo è Yes Yes Ragazzi potessi agire Ti vedi Mi è inizial Oh me, oh me, my box Oh me, my box Donna che be' stai Aspetta Ok, ok Ci sta, ci sta bro Mi piace, è sincera Mi piace Però mi piace pure FBI open up Eeeh Mi mette in vera Ti sei carino, ti sei svegli mai Ci sta, ci sta bro Se non è Faccio così Quindi Adesso ci passi la montagna Mi vado furtta la porta Ci sono tanti Un forti Per bussare E urlo FBI open up Ci starebbe Rega, sarebbe molto figo Metti un'allarme Se capirai No, rega E' una sveglia Questa rega Adesso è qualcosa di Ah, speciale Potrei fare FBI open up Figo Mi piace, mi piace G bro E dopo fare quello che ha detto Cosa Quindi Che On Che cazzo Certo però che ti agisco Mi raccomando Iscriviti e attivati la campanella Se vuoi essere agito Rega Ogni iscritto sono 10 minuti in più di live Quindi rega Se hai iscritti Un'ora Mamma mia Si muore Appunto Allarme nucleare Eh Lo so rega Allarme nucleare Certo bro Se vuoi essere agito Iscriviti E attiva la campanella Se sei già scritto Allora La parola è Diario Rega Vedete questa scritta qua Mi dovete aiutare Come facciamo I dei originali Forza rega Forza Allora Ok Capito Vai vai Dove vi agire Cosa Cosa Niv Cosa Niv Che sta a dire Bro Andiamo agire Ok Vai Scherzo Ok bravo Allora 5 iscritti Adesso 6 e 6 Dai Resto Vai Mi avete acceso Subito questo bellissimo video Lasciamo subito un bellissimo like Metti lo schermo grande Vai Ben son I got blind I got white What you want I pass out of ghost and hop up and fan on I know I'm about to blow I want to go They try to take my floor I take their ass Rest on I know that I'm gone They see me blowing up Now they say they want song I got 2 twink Нап Allora V Overwatch e quindi della live un'intervista mi fanno grande la cura perchè un mio asfitto sono 15 anni più di là e quindi sei schietti uguali un altro hai avuto bro? hai bisogno di guardare la campana nella sua vista vicino oggi ho fatto tutto ragazzi ho visto pure la live assolutamente ci sei? i got lots of shawty tryna pull up to my place but you ain't want me last yet so just get up by my face they all up in my head by so i know they want a taste i know they want my downfall a nigga are you less i got black i got white what you want hop outside of ghosts and hop up in a phantom i know i'm about to blow a wolf in time they try to take my floor i take they ass for ransom i know that i'm gone they see me blowing up now they say they want some i got two twing vlogs turn you to a dancer i see two twing eyes leave them on the band ahhh gormele nC-1 mi piace questa canzone ahhh ehh nC-1 l'importante è che ti scrivi e ti lo hampri a una volta che hai ti guarda e ho fatto venga ad agire ma bro condividi pure la live per tutti i tuoi amici perchè nu su questo sono 10,9 mesi più di live mi sei schietti un'ora più di live siamo pazzi proprio a regare scrivi quanto hai fatto non vieni a incrollare easy bro ok ok ero già scritto che broca e si sono scritte altre due persone quindi dobbiamo aggiungere 20 minuti mamma mia ragazzi bel video però bel video bel video e attenzione per il video per il video per il video e ad aggiungere 20 minuti mamma mia ragazzi mamma mia che mi fate fare giunto 20 minuti contenti ragazzi ma l'alessandro do quando iscrivete la campanella con un iscritto sono 10 minuti più allora si ragazzi fa parola quindi la nuova parola zaino ragazzi zaino nella nuova parola e quando iscrivete la campanella se volete essere reagiti ok zaino 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 perfetto regalo e quando ci vede pure un bellissimo like regata ieri loro vedi che inizia che ora inizia facebook beccate questo qui in poi giù di lulli l'alessandro do eccolo qua ragazzi partitel a partite dire a mi piace mia canzone andiamo subito a vedere l'ultimo ok e io nasce you go crazy yeah 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 ma cosa mi consigli per migliorare allora innanzitutto ti consiglio solamente di fare molte mappe per gli edit che sono fondamentali gli edit cioè scopri dai primanti che il edit è una delle cose che sono fondamentali che esiste e niente fai multi mappe per gli edit perché il resto per te la mira è la tua e non solamente le mappe per gli edit che consiglio di fare perché sei già molto bravo che la di fra quando tornerai a farti una collezione da me sai un sacco di oro però è molto bravo comunque bravo madonna bravo ma quanto vai di vengo quello che è uno sposto allora se potete essere uscito pure voi mi racconti scrivete la campanella allora zero tutto non ti c'è una domanda no? non te scavo il nome suo nostalgia e tiktok no 33 no cioè che comunque è buono 33 nel senso c'è sta gente pinga 60 comunque è buono comunque è buono niente 30 comunque ragazzi oggi faremo tiktok in live che ne pensate? c'è gente che ha zero di pinga e gente come come me che pinga così tanto che manco mi fa muove io adesso zero ping fisso con 240 hertz no madonna che computer hai frate dimaschere la tecnica col processore e poi ti lascio in pace spam gg 6 una bestia ok ragazzi andiamo subito a scrivere la prossima parola la prossima parola è gh mi raccomando iscrivetevi tutti e attivate la campanella 1.270 super con il 7 9600 k attenzione attenzione non si è sprecato il nostro caro amico luna e il tondo bella bro come stai? ho lasciato pure un bellissimo like eh? robaati quindi che dici? no niente euro peccato allora ma fra cosa ma fra? andiamo qui ha vinto la parola giacca ha vinto la parola luna e il tondo io scrivo prima e arrivo dopo frate e non so che dirti nel senso non è colpa mia io nel senso io leggo la parola che arriva prima a me poi se a te ti dici che è la tua come è successo tantissime volte con altri iscritti non è non è colpa mia ma se la del tuo che fai non lo so così comunque ragazzi tranquilli che tanto ci sono i mod che aiutano a fare la parola a voi ragazzi che magari ci mettete un po' di più fax call edit bimbi eeeh attenzione raga mi piace un sacco questo titolo eeeh attenzione raga mi piace un sacco questo titolo eeeh attenzione raga mi piace un sacco questo titolo è uguale un uo ra uno ra siamo passi ragazzi passi quando io ho capito questa live o via via ehi wow io do che va da ora bro grazie mille bro ueno è vero ragazzi ma ci credo non ci credo che trovano non è così squire che taglia 100 metà ma mai era che best regà best regà ciao bella bromina qua ogni iscritto sono 10 minuti più di live attenzione attenzione attiva pure la campanella così mi fai un favore per tutti i nostri video super belli e le live super interessanti gg bro sei una best nel pool gg broski gg quindi alla fine regà non ci ho mai pensato a questa però la si si ok grazie mille bro grazie ecco fatto grazie mille andiamo a vedere se si è fatto veramente no bro a me ancora non è arrivato niente forse sarà il tempo tanto controllo si fa iscritto attivo pure la campanella bro comunque non mi è arrivato ancora ok è arrivato adesso dobbiamo aggiungere 10 minuti fuck man allora aggiungiamo mamma mia ragazzi non finiremo mai 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 finiremo ragazzi ok continuiamo a scrivere la parola vai vai la prossima parola ragazzi dai regà 2 like ai 20 mi raccomando ci possiamo arrivare subito prossima parola sarà la quadro ti prego ditemi bene l'ho scritto bene con la circola con lo so non so come si scrive quadro cuore con la roba la non lo so regà allora cioè non voglio fare figure di merda ecco più che altro è quello non so tanto bravo con queste che ha delle grammatiche di questa roba qua perché voi lo capite no perché cioè nel senso faccio youtuber che serve che studio no la parte scherza ragazzi studiare è bello è bello oddio bello non lo so però serve ragazzi ma dai fra mi agisci frate guarda mi spiace un sacco che purtroppo arrivi ultimo però non ci posso fare niente è così cioè te pensa mettiti nei panni di chi magari c'è la connessione veloce dice vabbè ma che mi frega di questo che arriva ultimo la parola ho vinta io capisci io vorrei aiutarti ma andiamo e lo faccio anche per gli altri capito acqua bravo acq perfetto anche ora devi svegliare adesso però se non mi date qualche idea proprio figa non so che fare potrei fare open up fbi open up mentre fuori la porta passa montagna sbatto forte fbi open up così serve è molto figo ditemi voi se vi piace così prendi la tua strada eh non ce l'abbiamo regà cioè non ce l'abbiamo bravo non ti ho fatto per più ne abbiamo ragazzi regà se donati un euro diventare top donator che in questa l'abbiamo pronunciato non stai top donator incredibile cioè solamente un euro regà allora regà lo dico se diventare top donator fino alla fine della live vincerete due settimane di sponsorizzazione nei post commenti su instagram e vedete salutati in un video ragazzi in un vlog ragazzi no non un unboxing in un vlog regà quindi vi conviene un sacco pure su instagram ragazzi anche se non avete un canale quindi ci vincerete sempre no ragazzi no ragazzi la voglia mi è stata l'altra volta qua qualcosa di più creativo ragazzi qua qualcosa di più bella mi piace un po' e non è fatta quella scusate ma non so il tasto delle donazioni e non ci sta il tasto delle donazioni in posta in descrizione il link la sudo chat regà la sblocchiamo fra poco fra pochissimo manca poco regà la sblocchiamo perché stiamo facendo queste buissime live lunghissime regà ce la dovremo fare a sbloccare per me è meglio FBI eh infatti regà farò quello infatti farò quello halo cosa halo ah halo stasso ciao pensavo tipo halo il gioco bella bro come sta il biar 1 guarda la passina ma regà muo' ber 1 si vediamo ok in pratica vado fuori dalla porta mi chiudo vado fortissimo e urlo sblocchi open up così metto dentro lo smuovo tutto e faccio fare il casino no ragazzi ho qualcosa di originale non posso fare l'acqua no scusate è super originale per se volete che la faccio se no regà me ne è venuta mi interessa una visto che sono bravo con photoshop poi ti faccio un'azione di 87 euro così no ma perché volevo donare qualcosa ma adesso mio padre rompe vabbè bro tranquillo non è tranquillo non sei mica sei obbligato tranquillo tranquillo se tuo padre non vuole ovvio non donare tranquillissimo stiamo scherzando stiamo scherzando buon giro il mio montage è certo l'importante è che ti scrivi e attiva la campanella una volta l'attivata scrivi un certo fatto e vado a controllare il bro bellissimo video e ottima scelta delle canzoni per il montage ok vai 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 adesso andiamo subito a scrivere va bene tranquillo tranquillissimo mica ci servono i soldi solamente per il top donato tutto qua poi scriviamo la parola regà sasso la parola scrivete in chat fatto una volta che vi siete iscritti avete attivato la campanella ormai lo sapete intanto andiamo contro l'eroe contro l'eroe amici miei ok regà non iscritte più 10 minuti più vuol dire mamma mia regà quindi condividete la live regà perché aumentiamo in un botto se condividete 5 ok mamma mia regà un botto regà fatto ah pure tu bro fatemi andare a vedere bella regà bella frase regà se potessi agiti iscrivete e divertite la campanella ogni iscritto regà si aggiunge 10 minuti quindi se condividete con 6 persone e si iscrivono sono un'ora in più di live regà veramente un sacco ce l'ha fatta bro ce l'hai fatta finalmente era ora sì ho visto prima un po' è capitato a tutti oggi è il mio video certo bro iscriviti e attiva la campanella gli spacchi la madonna che chiacchio sono sono meno di 13 ecco a jason vediamo un attimo se vi siete iscritti ragazzi regà iscrivetevi e attivate la campanella che così aumentiamo pure il tempo della live regà allora eccolo qua fornette monteggio felling questo qua non l'ho visto io l'avrà visto game quindi te lo vedo io bella regà bella a tutti ho fatto tutto ok regà fatemi andare a controllare ok ragazzi è vero è vero dobbiamo aggiungere 20 minuti che due persone sono iscritte quindi da 5 dobbiamo arrivare a 25 mamma mia regà è un botto stavo a 8 ore e 50 quando ho iniziato quando stamattina verso le le 7 e 50 stavo a 8 ore e 50 mi mancavano mannaggia poi guarda quanto so porca buzette invece di scendere questa cosa lì non va bene questa cosa ragazzi no pensate se condividete la like con gli amici che mamma mia che best regà che best mi ha fatto ragazzi ok è questa best è ciò mi scrivo la like mi scrivo la like mi scrivo la campanella no no ho fatto tutto ok laschimina regà no scherzo cosa non scherzo non lo mettere ai mani ma cosa regà lagga la live no regà non lagga la live almeno non lagga bravo ma perchè non le metto il top donatore? è perchè è quello della vecchia live non di questa live non ti posso lasciare quella delle vecchie live queste hanno live bravo ma chi te l'amicizia? ma dove? sul funet? bravo questa mira troppo forte quella mira bravo quel piccone raga quindi bravo se vuoi un euro c'è il top donatore di questa live perchè questa live ancora non ha donato nessuno raga però al minimo 50 oddio l'audio lo sento bugato raga wtf comunque raga forza venite dalla live con i vostri amici perchè così aumentiamo la live raga per favore per essere agito bisogna attivare la campanella poi una volta l'hai attivata non è che ti dico subito una volta l'hai attivata puoi fare la parola si fa parola ragazzi però se vuoi aspettare la fila 50 odio anche io cosa? l'ho fatto tutto bro ok ok non lo so ragazzi dovete solamente aspettare e fare la parola se no donazione ragazzi saltate la fila bella alfa come stai bro? come va? come trapassi ci sono sempre raga alfa ci sta sempre alfa ci sta sempre non lo so scusa ma andiamo ad andare certo bro ci becchiamo in un'altra volta benvenuti al giro del femmine che tutti quelli si sono iscritti eh ma dai che illusai bro bravo bro vediamo qua che fa scala attenzione bravo fatto ho capito bro ho capito ho capito ho visto eh allora andiamo subito a commentare già commentato ok quindi raga andiamo a scrivere la nuova parola raga forse arriviamo a 30 like non ci vuole assolutamente niente no raga che schifo voraccio sono pronto per cosa per la parola penso a quella donazione microfono è la nuova parola quindi forse raga iscriviti attivate la campanella se vuoi essere reagiti microfono astron fs mi raccomando bro attiva la campanella se vuoi essere agito eh ha vinto astron fs va fn non so parlare mamma mia sono proprio stupito sono vai andiamo subito a reagirlo ragazzi copia vai raga condividete la live e fate iscrivere i vostri amici raga perchè se ognuno condivide i consegni amici propri e li fai iscrivere sono un'ora in più cioè vi rendite conto ragazzi fatto ok vado subito a controllare mi sono iscritto già da te no bro non mi è arrivata non mi è arrivata mi controlla te like e iniziamo subito vai ciao 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 Bravo, bravo Mi giudice Chi è la ditta ragazzi Se non bece la tua Vieni Vedete cosa è la mia forza Vedete Un botto di fortuna Mancavo un colpa di vita Ehi, apetì Un colpa, bravo Ma non esiste Chi è? Secondo che ho ben campato Il nostro ascolino nazionale Vediamo il passfacca ragazzi È venuto a scala edit È la morona Chi è? Beh, se ne abbiamo Scusate Quando ragazzi vedete se hai su di voi Scrivetevi Quindi vedete la line Mamma mia raga Che bestia L'ho fatto rinunciare a capo Che bestia Che bestia Infatti bestia Aspetta che rispondo a lui Già Bestia Ah, ecco qua Bella raga Mi raccomando Iscrivetevi tutti Perché ogni Ogni iscritto in più ragazzi Sono dieci minuti più di live Quindi adesso La nostra nuova parola Sarà Luce ragazzi La luce La luce in mezzo Quella via La luce Che mi illumina Nel mio cammino Nella selva oscura No, ma ti scherzi Io sono un cacchio di Dante Baby madre Che mi metto accanto a Dante Infatti mi metto a cantare Un pezzo storico Ragazzi La quarta sinfonia Di Shiva Auto blu Corro con Sto scherzando ragazzi Niente suicidi Allora Mi raccomando Ci vede pure un bellissimo Rack Raga solamente 8 Arriviamo a 30 Forza raga Grazie Gioco dalla season 1 Capitolo 2 Mazza frate Complimenti Cioè Giochi da poco E sei una bestia No raga Monster Inc No Monster Inc No Ok raga Diciamo che le nuove Precise Precise Lo sveglieremo Grazie Gioco dalla season 1 Capitolo 2 GG bro Sono contento Vediamo luce Vediamo che l'ha vinto Per primo Lui Just Player Player Just Pt Team Aspetta bro Oh buono Copia Vai Andiamo a superagire Adesso Condividete la live Regà forza Se chi vede chi lo fa Che lo ringrazio un sacco Raga Nessuno l'ha condivisa ancora Di social Buona live Grazie mille bro Mi raccomando Passa anche le volte Le prossime volte Bella bro Che cazzo ho fatto Sembrava un richiamo Per un cane Stavo Stavo Di cane Scusa bro Non volevo offenderti Scusami tanto Sì Comodo Funnel Montage Oh capito Oh 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 Vediamo qua Che fa ragazzi Andiamo Wow Ehi Mazza Fratello Molta vita c'avevi Madonna Nove di vita Che best Bravo 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 Astro Sì sì Sono arrivato in 5 giorni Nella Lega Champions E dai a loro Un botto Madonna Sì Eh La parte che Tu lo stai Andando in un periodo Non è Continuare così Guarda Io non ti consiglio Di tagliare Tantissimo Perché poi dopo Sucendono Per fare i guardi Ti consiglio Di giocare Il giusto E divertiti Comunque Cioè Gioca tanto Comunque Perché se sei In realtà Prosti Tu devi Che sei un sacco Bravo E non ti conviene smettere Per un po' Che pizzo Controlli Scarichi Eh è vero Ragazzi Sì sì Sta per porti il bit Wow 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 E quando ragazzi Scrivi Di DRAGON FANELLA Un iscritto Un decimo Non è più di là Quindi ragazzi Se hai iscritti Iguale Un'ora Quindi ragazzi Condividete Forza A3FN 1TWI 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 Federico In vostra madre Il vostro padre Il vostro canno Il vostro becciolino rosso Solo che devo fare Tutte le torneo Con sto Gioia 2400 Madonna Mi metto un cazzo Di sei aspetta ZA1FN Che costruirà Raga, se metterà lenti, guardate Cioè, non gli ha sparato, non l'ha preso Cioè, guardate, raga Cioè, raga, guardate, lui spara fuori Cioè, spara Raga, spara fuori Boh, sei una best, bro Do stava, do stava Sì, sì E raga, era una bestia No, no, complimenti, bro E poi andate, scrivete, non l'unico della famiglia che non ho avuto un pesciolino rosso No, raga, anch'io, no C'è nessun senso, ma che assi, ma non c'è nessun senso E fuori quando non si vede così Comparare con me l'italiano è fatta Perché ormai, con le gomme È normale, ragazzi Sì Sì Sì, sì 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 Così è vero, ragazzi Sì è vero, assi È vero Troppo è così, è un nome di l'italiano Sì 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 Non è che ti consiglia di migliorare Cioè Troppo è così, raga Perché tutti si sentono superiori a te, no Quindi si possono permettere di soltanto Ma sono 4k in più dei miei punti Non vuol dire niente, raga Cioè, nel senso I punti significano Il punto dove sei arrivato Quanto bravo sei bravo Quanto sei bravo, no Però a me non significano niente Non sono nulla Nel senso Se te sei bravo Puoi avere anche 100 punti Sei comunque bravo Di che li sta zitta Allora, raga Adesso Cominciamo Ok, raga La parola è Fotocamera Foto Camera Vediamo chi la vince per prima Raga, mi raccomando Iscriviti e attivate la campanella Se volete essere agiti Agisco solo a chi ha attivato la campanella Benvenuto, sai, quando mi raccomando Iscriviti e attivate la campanella, raga Ogni iscritto sono 10 minuti in più di live Oh, FBI open up FBI open up Ma che c'è Perché ti urla? Perché l'hanno chiesto ora Eh, wow Guarda, non hai dormito 3 ore, eh? È il mio 4 ore e mezza Arriviamo ai 5 No, dai Ti devi alzare Perché c'è un problema Ma Asia Eh, raga Asia se n'è andata, raga Sì, ma Frama non può dire Che giochi della season 1 Capitolo 2 Perché la skin della season 10 Lo design è la season 2 Poi dici 5 giorni Sei arrivata alla liga Dei campioni Vabbè, raga Non dovete insultarlo Ognuno fa Cioè, io Non so nessuno Per mettermi in mezzo A di ste cose Kree Andiamo subito a gire a Kree Cassi Meno qua Quando iscriviti E ti dà la campanella Andiamo Ocuno è scritto Bello cifero Bella gcm Certo, regà Per essere agiti Bisogna iscriversi E attivare la campanella Non ci vuole niente Una volta che attivato La campanella Iscriviti Iscriviti Fatto Ti agisco Sono nelle 9.10 Cosa? Dai, che è? Oh, io mi sono alzato subito Ma che stai attivando? Sì, ho detto 5 minuti 5 minuti Vai, ti do 5 minuti Allora, Kree Eccolo qua, Kree Già sono iscritto Ok, allora bro Attiva la campanella Fondamentale Party girl Ecco qua No, perché Ah, è tornato ragazzi È tornato Già fatto Perciò sono venuto Ah, grazie mille bro Fondamentale C'è un giro del family Fondamentale 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 Iscrivetevi Attivate la campanella Regà, mi ricordo Poi ragazzi Avete tanti amici Di campanella Sì, io Condividete questa live Solamente vostri amici Fatemi iscrivete E fai gli attivate la campanella Perché ogni iscritto Sono 10 minuti Sono 10 minuti In più di live Ragazzi E se sei iscritti Sono un'ora di live in più Un'ora di live aggiuntiva Cioè non sto Parlando di poco Avete dormito Ma certo che non faremo Vedete quanto sono arrivato Proprio Perché ci sta Fai gli scherzi Ragazzi Ho aiuto il mio Di tre ore Ma la pro Sono iscritto O lasciato live Grazie mille Diavolo Mi raccomando Ti auguro la campanella Per essere agito Com'è detti i nostri nuovi video Bro guarda Io prendo un mini skin Bro guarda Lo prendo un mini skin Certo regà Quello prendiamo Però bello insieme Adesso ancora non è fondamentale Mi seguo Dove prendere Sì bro ragazzi Non potete Inserarmi Vabbè regà Sono troppo lunghi I passi commenti Non mi voglio leggere Dieti che Faccio un certo Allora regà Dobbiamo finire 10 minuti Vediamo Vediamo che c'è scritto Ok regà Si è scritto veramente Abbiamo giunto 10 minuti Veramente regà Mamma mia Stiamo regà Non so Stiamo regati quasi 11 ore in più Regà Poco due Non metti a capo regà E' qua regà Iscriviti tutti Il teatro della campanella E condividete la like Poi c'è pure un bellissimo like Regà Arriviamo a 30 like Ce la facciamo regà Ce la facciamo easy Ciao 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 Che best Cioè guarda che edit Regà Super fluidi sono Complimenti bro Complimenti Non insulti Bravo PS E' il mio primo montage Bravi 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 Ecco Poi esce stepney Con un metodo di fuori E poi Ti la prendi con stepney Va segnalato bro Va segnalato Digibro Sei una bestia E complimenti Perché Per essere Il tuo Primo Montage E' Fighissima Fighissima Beh regà Non so scrivere Fighissima Vabbè frate Questo Fighissimo L'ho inventato io Non ti lamentare più Mi raccomando Bravo Bravo Schiviamolo Passiamo ora in live Già fatto Perché sono Ok Sai che molti pro player Non giocano la pubblica Perché lagga Sono le cifre Ma meno più Vabbè Fiore ragazzi La nuova parola Piedru Non tuoi punti arena Vi state chiedendo Cosi fra di voi Gioco time Makeup PS Grazie mille bro Di che bro Grazie per essere entrato Una live Benvenuti a Giorgio Allora Andiamo un attimo A vedere gli iscritti Ok regà Stanno fermi Stanno fermi Per fortuna Ah no Dobbiamo aumentare Di quell'uno Che è salito Mentre stavo leggendo Al video Quindi Arriviamo Stiamo A dieci ore E mezza Mancanti Bella Jopro 08 Mi raccomando Iscriviti Attiva la campanella Che ogni iscritto Sono dieci minuti in più Ragazzi In pratica Sei iscritti In più Sono un'ora di live In più Se muore Regà Andiamo a reggere Assai con ragazzi Che ha vinto la parola Mi raccomando Regà Iscriviti Diretti alla campanella Se volete essere agiti E poi Diretti alla campanella Non perdevi nessun altro Nostro video Super figo Interessante E poi regà Se volete allungarci La live Iscriviti Diretti alla campanella Fidati Ne vedremo delle belle Tutte oggi Regà C'è la c'è la c'è la c'è la tritardata Ah boh Quando è pronto video Non in tutorial Ok Like Siamo grandi Andiamo Bravo 200 Bravo Bravo Andiamoci Che bestia Regà Oh Tensione 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 E' una bestia Ragazzi E' una bestia Che ne vai mangiare A te C'è una bestia Sei una bestia Bro Complimenti Ragazzi Ragazzi Se potessi agiti pure voi Mi raccomando Iscrivetevi E attivate la campanella Non ci vuole assolutamente niente Mentre l'esitato Per due secondi Mi piace un sacco Regà Aspettate One second Faccio una cosa Fly Che Ecco Incarica Fatto subito Bella Sara Sartori Ciao Mi vuole salutare Bella Sara Sartori E quando Iscrivetevi Attiva la campanella Così allunghiamo Il tempo Il tempo Di dieci minuti Ogni iscritto In più ragazzi E' una notazione Comunque Ecco due Ah Io quasi sono una Ma sono comparative Odio Non male Faccio pure Brava Bravo Madonna 200 GG bro Bellissimo video Veramente Complimenti bro Allora Mi raccomando Regà Iscrivetevi A teatra La campanella Se volete Essere Reagiti Pure Se non Volete Essere Reagiti Perché ci divertiamo Un sacco E niente GG bro Bellissimo Montage Continua Così Bravissimo Allora Andiamo subito A scrivere La prossima Parola Grazie mille Di che bro Ciao Mi saluti Ciao Sarà Sartori Mi raccomando Iscriviti Attiva la campanella Così non ti guardi Nessun altro video Allora Alla prossima Parola Ragazzi Sarà Ma Qualcosa di naturale Ragazzi Qualcosa che sta sparendo Vediamo se indovinate Albero Ragazzi L'albero Bella Risolto Sono io Bella bro Mi raccomando Iscriviti Attiva la campanella Benvenuto A Giorgio The family Hai un clan Dove Dove è un clan Su clash of clans Io gioco La bici Ah ok Qualche modo È migliore La mia Boh Sicuramente Non ho capito bene Che cosa mi vorresti dire La mia mira Ah Boh Fredè Fai qualche Box Con Gli obiettivi Prova Su fornet Aveva Avevamo Un team Nostro Raga Me lo dobbiamo Tutto chiudere Per problemi Raga Però Mi raccomando Iscriviti Se volete essere agiti Poi raga Se vi iscrivete Anche se non volete essere agiti Aumentiamo il tempo Della live Come potete vedere Sotto di me Esattamente Qua sotto Ci sta un timer Conto alla rovescia Esattamente Finirà Alla live Alla fine Di questo conto Come potete vedere Una sub Veramente Un'iscrizione Aumenta il tempo Di 10 minuti Quindi se condividete Con 6 amici E si iscrivono 6 amici Sono un'ora in più Di live Raga Quindi iscrivetevi Che aumentiamo il tempo Ragazzi Mi raccomando Raga Mi raccomando Saigon Ha vinto di nuovo Raga Quindi no La prova La dava a Lucifer Ok Lucifer Vai andiamo A girare a Lucifer Quindi raga Mi raccomando Condividete la live Perché Tutti Se vi iscrivete Raga Aumentiamo un sacco La live Raga Mamma mia Mamma mia Parti girl Certo Andiamo su Per reagire Parti C'è là C'è là Il uovo e farina Perché Che vuoi fare Fred Non pensare Che ci lanciamo Le uova In seguito Con la farina Che hai sbagliato male Hai pensato male Mamma mia Fred Sono un botto veloce Cioè Veramente Complimenti Bro Non mi insultare Per la grafica Tranquillissimo Ci ho colto E cliccato Ragazzi Ora va meglio Bero Bero Mi è piaciuto Sto partendo Hai fatto degli edit Per me Tanto luce Non potete Ragazzi Ragazzi Bessia Figa Questa cosa finale Se ci pentivi Veramente Le schermate finale Era veramente Un stacco Figa GG Bellissimo Allora Andiamo avanti Ragazzi Andiamo avanti Andiamo avanti Allora Andiamo avanti Ok Scusate il rumore Non posso doirlo Per il momento No Lasciate perdere Scusate Ramo Ma ci sono i giardinieri Bella Bella bro Posso giocare con te Per giocare con me Bisogna scriversi E attivare la campanella Poi ti invio il mio libro Ramo Eccolo qua Alpha 04 Rega forza 6 like E arriviamo ai 30 Non ci vuole niente Fatto Ok rega Il mio D E' questo qua Id Allora Joy Questo qua Il mio D Comunque Grazie mille bro Per esserti iscritto Di sicura tantissimo Grazie mille bro Grazie mille Allora Ramo Alpha 04 Che dove andare a gire Ma alla fine Non ho più leggito Quindi forza Il mio video Di Olli G Ok bro Rega forza Solamente 4 like Rega Solo 4 like Ai 30 Ce la possiamo fare What Non ci sta Alpha No Non ci sta Alpha Eccolo qua E' lui Si rega E' lui Rega forza Solamente 2 like Dagli rega Iscrivetevi Attivate la campanella Rega Perché ogni iscritto Aumentiamo il tempo Di 10 minuti Comunque Rega Non mi sta riscrivendo più E' non va bene Oh dicks Eccolo qua Va dick Va dick Basta dai Madonna mia Io suicidavo C'è stato troppo No vabbè rega Si qua troppo simpatica Ma che sto vedendo Ma che sto vedendo Ragazzi Ma che sto vedendo Ragazzi Ma che sto vedendo Ma che è Buongiorno Dario Buongiorno RKS Ma la fine Ma la fine Il tuo amico Chissà Non ci ha Non ci ha Fatto sapere Ragazzi Se volete Se agiti Mi accanto Iscrivetevi E attivate la campanella Un iscritto Rega Entrò in 10 minuti Della live Quindi se iscritti Sono Un'ora di live In più Ma che è No vabbè Ma che sto No vabbè Ma che è Che è Ho provato A chiudere Ma cosa Ma se te la fai A chiudere La porta Che rumore Grazie Ma dai Io non ho spinto Ho fatto pianissimo Poi ho visto La tenda Ho detto Beh L'alza Che Madonna Rega Vabbè Boss Averta Tu madre Stamattina Vabbè Rega Basta Schiviamo Passiamo Rola Bene Rega Un like 30 Forza Ma che è successo Io non ho fatto Niente Non ho scritto Niente Non ho fatto Un cazzo Eh Ora A 92 views Dai Rega Dai Sono contento Ho messo Il trentesimo Like Grazie mille Rega Andiamo a vedere Gli iscritti Rega Nel frattempo Forza Rega Mi raccomando Dobbiamo aumentare Allora Andiamo subito A scrivere La prossima parola Ragazzi La prossima parola Sarà Elfo Hai mangiato Che Eh Non lo so Io non lo so Ha vinto Rega Cosa Mattia Grifa Elfo Bro La tra l'altro La tua giornata Di live Sono entrato Me la accetti Si rega La accettiamo Dopo Che adesso Siamo sul computer Noi giochiamo Da ps4 Giusto Per rilassarci Allora Elfo Ha vinto Mattia Grifa Quindi Andiamo a reagire Subito Mattia Grifa Puffo Si Proprio quello Bro Va bene Al più Ho già visto Quasi tutti i video Non so più Che guardare Cioè in pratica Tutti i video Che ho visto Un momento Tranne Giuseppe Cassese Che non so Che cos'è Sono iscritto Mi agisci Bella Ok adesso Mi sentite Stavo dicendo Ragazzi Per essere Agili Bisogna Iscriversi E attivare La campanella Poi vi vado A controllare Se l'avete fatto Ok Veramente L'ha fatto Ragazzi Quindi adesso Aggiungiamo 10 minuti E poi verrà Reagito Quindi ragazzi Un secondo Fatemi Aggiungere 10 minuti Alla live Mamma mia Regà Non finiremo mai Ecco qua Fatto Aggiunto 10 minuti E continuiamo Dopo bro Verrà Reagito E per i 100 iscritti Cosa No Vabbè Io raga Non mi ha fatto Uno speciale No Vabbè Che figata Tu vai da dietro E' fighissimo Bro Che è successo Le KS Non capisco No Vabbè Quanto cacchio di tempo Di avversa Ho fatto Un mega speciale 200 iscritti Da quante chissi Caccola che sono rimasto Un aspect fissa Per tipo Tre ore E niente Non fece niente Poi Quando mi ho taggito Scrivito Sempre un aspect fissa Poi ho visto Abbiamo fatto 16 ore di live L'ho staccato L'ho ricominciata Con questa qua È andata molto bene Sempre sopra 10 Per tipo Quasi due ore Prima tre giorni E c'è stato un caldo di corrente L'hai visto? Sì No ok No 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 Non fa bene Bisogna comprare la scatolina Subito La scatolina Apri la corrente Se no Sai che succede? Vabbè la corrente Di botto Cade un fulmine Si brucia L'APS Il monitor Le casse Il computer Microfono E le luci Suono delle scatoline In caso di cortocircuito Si assorbono Tutta la corrente Cosa? Sta dormire Prima l'hai scritto La parola Ah vabbè Scusa RKS Non l'avevo visto Scusami tanto Vabbè Adesso scrivo la parola Facciamo Riazzeriamo tutto Dai Non fa niente Scusa però Non l'avevo visto Raga forza Forza Iscrivetevi Attivate la campanella Bella Real horror Mi raccomando Iscriviti Attiva la campanella Tetto Ha vinto Real horror Oddio Ho paura di quello Che sto per vedere Se si chiama così Chissà che video Terrà Mi raccomando Scriviti quando Attivate la campanella 300k Ma sei serio Non sei te Ok A 300k Dici Non ci sta un'altra account Dici Sarà fake Sicuro Se fai verso il vomito Con E io No raga Non vogliamo Account fake Iscriviti fake Bella maxi Bon Mi raccomando Iscriviti Attiva la campanella Le avranno scritte Come svegliare Kevin Ok Non mi rado Dove fate dire Dopo si arrabbia Dai per gli scherzi Ciao bro Comunque attiva la campanella Vabbè Non vado a vedere più lui Dove fare un'altra parola Che pesa Fai verso il vomito Con il dito Mi faccio 50 canali Mi schermo tutti i 50 No raga No raga Non vogliamo account fake Se non c'è scritto Mi chiamavo LG Max Prima Ah vero Dai raga Abbiamo giungito Altri 10 minuti Raga Altri 10 minuti Mamma mia Non si finisce più qua Mamma mia Non ci rimuoviamo Bella fortuna Gaming Mi raccomando Iscriviti Attiva la campanella Porta E foggia 24 Allora Ti procuro Nuovi iscritti Non fake Ok bro Vai Questo mi piace Condividi Con i tuoi amici Mi raccomando Nice Dai dai Porto i gamer Passiamo a continuo Fino alle 8 Bravo E' così Basta il tempo Dopo Piano piano No ma che dopo Piano piano Non quasi ribotto Si condividi Però devi fare Il verso del vomito Ok bro Bene Sì Perché non Mangia Dario Eh Ma Sì 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 Bella raga Madonna Che cosa è Sì 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 Ok Fiore Eh raga Non ho visto Nessuno Unir Incomincia Non 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 Che ha visto Radio Vabbè Sì Alla Non lo so For 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 The Gamer Ok Vediamo Faccio Così Ma Sei fake Parla Buongiorno Bella raga Bella a tutti Bella a tutti Mi raccomando Iscrivete La campanella 2020 Una maturità Che credo Molte persone Ricorderanno Questo video Fondamentalmente Un video Diario Di effetti Che utilizzerò Come ricordo E soprattutto Un video Che voglio condividere Con voi Perché ci tenevo Un sacco Quindi mi raccomando Guardatelo Fino alla fine Ok 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 Il 26 giugno Precisamente Il 26 giugno Il 26 giugno Il 26 giugno Oggi invece Il 26 giugno Il 26 giugno Il 26 giugno Il 26 giugno Nonostante Questa sia considerata Da tutti Come la notte Che cosa E' esami Perché Effettivamente I esami Iniziano Domani Ah Questo è quello La Tutto un giorno Qualcosa Ah Sì Se il video Finisce Eh Però Non lo posso Vedere Allora Iniziamo io Eh Io li faccio Tutto Bella 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 A tutti Mi raccomando Come sta Adesso Rinco Rinco Ok 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 Oh ma Tutti così Oggi E' possibile Attica Tanto Oh Perché mi stanno Massagrando Massagrando Sì ma Non posso Vedere Gente con la Mendizzazione Nega Non potrei Ricapire No no Bravo Frate Terzo Eh vabbè Troppo tardi Questo non Mio Ho visto Sei forti Madonna 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 Brate Sei veloce Ma come Come vedi 182 Madonna Brate Scriviti Che c'è la campana Bravo 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 Eh C'è che io vicino Boh sì Credo C'è 130 fps Non credo Lo faccio Non so Ti sta dormitando Sì No No Sono legto i messaggi C'è Credo Provi Lo stanco Però Non so No ma devo Continuare Ah è vero Ma tu stai Quello là Stai perché Hai dormito tanto T'ho visto Ho fatto dormire 5 ore Ma che 5 Sì Sì Ma che Sono le 9 e mezzo Togli mezz'ora No Ho dormito 4 ore Più di 4 Eh vabbè Non ci erano più Dove dormi 3 ore e mezza Dove dormi 2 ore e mezza No Ho dormito 2 ore Che c'è un meglio Prima che mi ha presentato Un caldo che parlava con Flami Io ci parlavo piano E ci portavo rispetto Non c'era nessuno Forse No è vero Portavo piano Io comunque ero in uno fisso Comunque paravo comunque Con chi parlavi con te stesso Con il nardo Fa Hai tassi di rider Ha? Hai tassi di rider Ma che partì? Non lo so cosa vuol dire Però sì Hai tassi di rider Non c'è un po' di schicca Non c'è nessuno Ti giuro Sono andato a cercare il più Ho disperato live Gioco con voi con No vabbè Cosa? Ho giocato con Ti vi è piaciuto? Ah Come l'ho commentato? Tipo Ho 50 Quasi un'ora di Rocket League Perché ho fatto 20 minuti a partita Ho bloccato un po' di roba Ho tentato fortissimo Ho fatto 15 gol In 20 minuti Non posso Ma se vede dove te 15 gol? Ah ah Sai giocare a FIFA? No 15 gol Rocket League Ah Vabbè Segui Aspettati Mi ha fatto un po' di letto Si Oh Non trovo contento oggi Perché mi è andata molto bene Questa seconda live Questa staccata No Vabbè Se non massacra Guarda Non è ancora bene No ma mi sta Proprio fattito Ah Sto odore è troppo forte Si Ma te hai preso la redbull Io mi sono preso si E certo Ero a presto stamattina È solo le 5 e 6 Eh A sopravvivere da solo Non sa parlare Non sa fa un cazzo E' stato molto complicato Non te guardi la live dei stream Ma in realtà non ce l'avevo con Allora Non ce l'avevo con Io manco quando ero andare a dormire No mi stavo rompendo il cazzo No intanto quello di No Ah aspetta Aspetta E se al secondo stavo in live Non ci sta nessuno Mi stavo rompendo proprio Perché non ci stavo No intanto quello del video Ai tassi di versione più veloce del mondo Da digitare Qualche fps fa? 240 ne fa 20 fps Rega dove te Ho iniziato nel make up Fps 40 Scusate il correttore Condividete rega La live Basta fare gli scaviti Si no no Si portiamo inscritti E molto aspetta Coglioni Qual'è il problema? Lo fammo sempre tra Appunto Che sembra che ti hanno lanciato Una pazzuca Un po' vedere i miei video Perché la manipizzazione Ah si non posso vedere i miei video La manipizzazione Non direi che ti è incazzato Non lo possiamo vedere ragazzi Perché magari qualcuno Potrebbe fare furbo Coppita TAC Segnaliamo Chiudiamo il canale Strike Che vedo ragazzi Tanti motivi Allora rega Che dite se giocamo insieme? Aspetta andiamo a vedere il programma Quali sono? 9 e mezza? Colazione Fino alle 10 Chiamiamo gli iscritti e diamo il buongiorno Ma l'hai fatto? No Non ci stava nessuno Vabbè chiamavi che ne so Capisci? Non ci stava nessuno? Alla madonna Alle 8 Nessuno Ti sa che vuol dire uno fisso Zero Uno Zero Uno Brutto Eh io non potesse Infatti Però poveri L'ultima video Vitox Vitox online Chiamiamolo Diciamogli buongiorno Bro Ma No Ti volevo chiamare per darti buongiorno Grazie Eh prego prego E di che bro Vabbè Adesso siamo Fai buongiorno a tutti Dai Ci sentiamo dopo Bella Bella Breve ma intenso Che fai? No l'ho chiuso bene Ho messo tanto dentro i cuscinetti sotto Infatti ci stava molto bene Nel mentre c'è il mio meme Davvero raga Qualcuno raga Va online Se come faccio a chiamarvi ragazzi I numeri non posso Mi puoi mettere moda Ci sono ogni live dagli 800 iscritti Ma chi è? Alex Non è vero Io sono online RKS io non ti vedo Dagli 800 RKS Aspetta In sto gruppo chi ci sta? Chi è RKS in sto gruppo? Tac Tac 4 Loves Don Gino Eccolo Andiamo andiamo Bro Buongiorno Come va? Ho visto che ci sei Ho visto Niente Dobbiamo dare il buongiorno Dagli iscritti adesso Eh ho visto Ho visto Ma te sei Eh infatti Sei il boss Sei il boss delle torte Se te lo guardavi almeno Il boss delle torte Eh? Te lo guardavi almeno Ma no Non so che cos'è Un boss delle torte Il senso Un boss Che delle torte Vabbè Ok raga Adesso vediamo che fare Eh acqua Allora raga Dobbiamo fare Mi Mi ha giocato Io su fort Mi chiamo rogers Back Ok raga Ok ok Raga condividete questa live Raga condividete questa live Ragazzi Sì Sì No ci sta Cosa Io lo posso scavare Gratis C'ho il game pass E' perso Sì Si se lo gioca in due Mi agisci per favore Certo bro Iscriviti E attiva la campanella Che ti agisco subito Però bisogna essere Iscritti Con la campanella Poi io ti vado a controllare E ti agisco subito No Comunque no Bravi Infatti Comunque raga Eh? Non ha donato nessuno Ha diventato un robo edy Che voleva Cioè non voleva donare Nel senso Io ho detto L'ho detto No bro Scuro Quello ce l'ha donato Quattro euro L'altra volta Il boss delle torte Me lo vedo Fino a mezzanotte Io mi chiamo Bardrak Vai che Ancora non mi hai Reagito Triggered E' vero E' vero Devo reagirlo Ero già scritto Da tanto Ok adesso Però devo reagire A RK Esce R N S Ero così Sì Ho uscito un nuovo gioco Mi chiamo Devi avere il drop Tipo Vado Ma è il basso Cacchio Ma vuoi fare solo live Eccolo RNS Aspetta Benvenuto Nel team Davide Che sei troppo bello Raga Nuovo membro Del team Benvenuto Da E' solo questo Benvenuto Nei R S N Let's go Let's go E' un voto Te l'esce Ti giuro Troppo Lì ha fatto 150 Ha fatto 150 Mila Più Allora Raga Andiamo Leggere KS Team 22 ore Fa New Video Non ce l'hai detto R R R N S Andiamo 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 200 Di 9 In testa Non ce l'hai detto Non è il suo R Ah non è L S Che bello Mi ha detto E R N E' un bello S Ma che è adesso Snowboard Ci stava un botto di tempo fa E' un botto Si Rai a me Eh Ma molto via Rai a registrare i video Ti ricordi quando era uscito Snowboard Eh Ti ricordi quando era uscito Sì Per quanto ore l'hai fatto E' un botto Eh Rai a registrare i video Per quanto ore l'hai fatto Quasi due Ha mangiato Si Figo Figo Eh Sì Anne Bellissimo Video Let's Go Let's go Mario No Bellissimo video Let's go Let's go Let's go No Spesso Spesso Lo devo modificare assolutamente Modifica Let's Let's go Let's Let's go Oh Vabbè Adesso Adesso è figo Adesso è bello Ma io sono l'unico Che ha un canale Ma che partì No Siamo tutti con un canale Qua Crystal Feel Bella bro Mi raccomando iscriviti e attivare la campanella Perché ogni iscritto ragazzi sono 10 minuti in più Se hai iscritti sono un'ora in più Cioè quindi regà se condividete Bella Eila Mi raccomando iscriviti e attivare la campanella pure te Certo che ritiraggiamo Bisogna iscriversi e attivare la campanella Forza regà Arriviamo a 40 like regà Solamente 6 regà Solamente 6 Ce la possiamo fare Non ci vuole assolutamente niente Proprio niente Cioè poi ad occhio Chiusi ci arriviamo Forza regà Ok Dobbiamo aggiungere 10 minuti ragazzi 10 minuti Quindi Andiamo qua Bello Ah tranquillo Ah bravo è troppo Ok Dai Cosa Dagli Non c'è scritto Ok Ah tranquillo Ok Scriviamo la nostra La parola Catto Gratto Li sono due Le che sto live Eh Questa è la live Questa è la live che ho distattato Eh Cosa Che devo dire Ah niente Chi si aggiorni Con 326 Però buttati erano Voglio vedere una Non lo vuoi far vedere Eh Un attimo ragazzi Cani Gatto Ma non giochi Sì che giocavo Infatti O giocavo Comunque Mi hai fatto più di tanto Come Ah che fidati Cosa Magazzi 3 ore 1 Io ne ho fatto più di tanto Ero Io ne ho fatto 5 Cosa Io non hai fatto ore Dalle No Dalle 5 Fino alle 8 Abbiamo I quali di basso Cioè Tutti i modi Erano Altra volta È normale Quest'altro non c'era nessuno Se stanotte rimanemano 5 Pissi Sai quanto Le facevamo Allora Gatto ha vinto Crystal Andiamo subito a vederla Non so dove Ho letto Cris Però Oh Cristallino Guarda Hai visto che Lord Non c'era più scritto Perché Perché ho detto Quella cosa E like Ma non è per cui Non mi dai Ah se oggi Non viene È per quello Viene di tutti i giorni Vecchio Sì Gli ha dato Buona notifica Di questa qua Nuova È Mo sta a dormire Grazie al cavolo Vediamo 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 Se lei Ha le 10 Tutti in copia Ma nessuno Nessuno Ci riesce Attenzione Questo è un titolo Alpocante Ma quando Scrivi Di Della campanella Chi è Boh È cristallino Bravo Ma èissimo Ma èissimo And it bro Bravo E vabbè Ragazzi Ho fatto un team 330 GG Bravo Ma quanto do gli va a mettere il testo a 315 Esatto Ma lancerati non c'è più Più meno C'è quello L'hav moderno Quello fa tutto a lungo Cioè Chi è? È un altro tipo di lancerati Fammi lo danno Proprio veloce Questo qua Ma non c'è l'azzo Sì Cambia niente È diverso Ma è comunque non c'è l'azzo Vabbè ho capito Però è diverso Sto dicendo No Non permetti Ci intendi Di lancerlo niente Quello che spara Sì ma questo Sì infatti Sì Mi sono morto sull'iPhone Mi ho 8 anni Caricato Per 2 anni Mi scaricato 2 giorni 2 secondi L'iPhone L'iPhone Si scarica subito Mi uso tutto il giorno C'è una durata giornaliera Di 12 ore e mezzo Perché? Perché Ho usato E live Ogni giorno Poi vabbè video Instagram Mi piace Io c'è una durata Di 2 ore Staggiorno Impossibile Quattordici giochi Bravo Ma vedi dormito? Si Che è un numero di mic Tipo in differenza Che è un numero di mic Tipo in differenza Che è un numero di mic Che è un numero di mic Spassa No Che è? No Ma che non hai dormito Mi dormito 2 ore e mezza Ma che 2 ore e mezza Magari 2 ore e mezza Si Eh per colpa tua Non hai dormito Colpa mia Eh certo E che è? Ah già Mi hai fatto Mi hai tolto 3 ore Non potevo dormire 3 ore Ma mi hai fatto dormire 2 ore e mezza Mezz'ora all'inizio Dove mi hai fatto dormire Ho dormito Non ho letto Non ho letto 50 Non è una dormita Ma vabbè perché te non ti riesci a dormire Ma se no avrei 2 ore e mezza O contro 5 5 4 4 4 e 20 Che sto comunque un voto Adesso no Prima si Quanto sa? Il caccia ha una gola di più Quanto sa? Quanto sa? Quanto sa?! Oppure se Padino per la mia colla da vittoria di città la vecchia la moda il cappello mira a Che famo? Giochiamo Rega forza solamente se like Si vuole il patino E guarda quello che ha visto il primo Oh guarda quello che Che ha visto il primo Bene 10, 11, 12, 14, 12 Minimo 10 Tutto il tempo E' buono no? Ora agirmi Vabbè questo è normale Cosa? 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 Certo devi attivare la campanella e scriverti bro Parola parola Le facciamo solamente a chi ha attivato la campanella e si è scritto Parola parola Ho capito ma deve essere scritto e deve attivare la campanella Beh Io la lavo i denti O è la prima idea Vai chi ha detto niente vai Finalmente è rimasto molto interessante del team Allora Team RGPSU L'uomo è molto più bello Ah è professionale questa tensione Già fatto tutto Ah già fatto tutto Grazie mille bro Andiamo un attimo a vedere per aggiungere i minuti se qualcuno altro si è scritto No a posto Parola Ok arriva Ora faccio la parola Un secondo arriva Controllo una piccola cosa Poi facciamo subito la parola Allora 3 2 1 La parola Eeeh Libro Nel tempo ragazzi sto controllando una cosa Mentre voi scrivete Eh Vamo subitissimo al fly Regà mi raccomando Iscrivete Allora Però devi cercare S.P.N. Zucco Non sei arrivato prima di Spera E' arrivato Fra c'è l'intenferenza Allora Però devi cercare S.P.N. Zucco Non sei arrivato prima di S.P.N. Zucco S.P.N. Zucco Regà mi raccomando Iscrivete Allora Però devi cercare Ah intendi Questa interferenza E' tasto muto E' niente cosa Per parlare In caso ci dobbiamo mutare Roba così Non è niente Non è niente Inferenza Allora Andiamo a reagire S.P.N. Zucco R.K.S. Dovremmo Rockway Perché Eh Che vuoi fare La doccia Non gli ho detto In niente Cain E' una domanda Boh è nudile Che tanto Mo non ci legiamo Regà Forse Quattro like Solo No io ne ho fatto Un cacchio Vabbè Vabbè Ma che Non è mica Pesante Non è niente Guarda la chat Va bene Ma la fine Le tessere Le tessere Le tessere Dunque Ci sta qualcosa Guarda Guarda Vabbè Ho compreso il microfono Come c'era Fazzare Perché si può Fulminare Senti quella Non si è arrivato Bene Basta Ti è arrivato Fra c'è l'intenferenza S.P.N. Zucco S.P.N. Zucco S.P.N. Zucco Dove ripetiamo Regà mi raccomando Iscriviti Amici Hai visto che luce Hai visto? S.P.N. Zucco È bruttissimo In senso è pericoloso Non capita a volte Cosa non deve capitare Quando c'è il pc fisso Putti il processore S.P.N. Zucco Ci prendi 500 euro di processore Perché tutti hanno un codice creatore Coglioni Ho le gente con un iscritto C'ha il codice creatore S.P.N. Zucco 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 Oggi è uscirà la skin di Capitano America F.N. Zucco Fuori il peccone Peccone Lo scudo E' figa e figa Ci sta S.P.N. Zucco S.P.N. Zucco S.P.N. Zucco per le spade no? no, per allora, la spade almeno non è una vangela i pannelli fanno assorbenti e vabbè rica che famo? che famo? parola eh? seguite su Instagram o abbassa su trapano ma che? muore da ma che? vabbè vabbè no vabbè mi raccomando 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 ci siamo non ci possiamo fare assolutamente niente ogni tanto cercheremo di mutare però allora Dalle Allora stavo dicendo Stavamo dicendo La muta lì ha fastidio E dobbiamo parlare Si stai zitto Volevo dire ragazzi Volevo dire che adesso Sono le 10 Quindi dalle 10 Alle 11 Dobbiamo fare il karaoke No dai Non ti scherzi ragazzi Dobbiamo giocare Cosa? Che giochi giochiamo? C'è quello da Pekka Non c'è giocata Hai preso Eh devo scaricarlo Ma la neve C'è sul mio però Tieni un attimo con la chat Forne Bella not Ciao Cyber Mi raccomando iscriviti e attiva la campanella Perché ogni scritto ragazzi Facciamo Allunghiamo la live Oh dobbiamo aggiungere i 10 minuti Non me lo dici? Ma basta Prego Eh reggila Un attimo con la chat A reggila In mano Così Tieni nel mano Eh che cazzo Allunghiamo Ecco perché Dove la moscia aperta Capito? Eh no Ho capito Bella notte Arriga muto Allunghiamo Arriga Arriga non parlamo Ma perché Da fastidio Questo coso Quindi Non parlamo Cioè Da troppo fastidio Ah Non l'ho Ah ok Eh ragazzi No Vi raffassi Deve spacca Di Già Quindi chiude E me Sinceramente Dei senti Il torturamento Finché non è forte Eh Vabbè Oddio Bella Rigs Rigs Vai come se la Vabbè Ma guardi vita Se no Poi non si sente Più di tanto Vabbè Allora lasciarla Se lo dici te Devo facerlo per voi Vai Lo dici al mio secondo video Sì bro Basta ti iscriverti La campanella Sì c'è la campanella Sì c'è la parola Mi hai fatto Sì c'è la parola Sì c'è la parola Sì c'è la parola Sì c'è il tonicx Ok, già lì, mi vado. Ok, gobbia. Allora, al punto. Perfetto. Se lì... No. Perfetto. Fatti ce ne stanno così. Canale. Che fotoide. Uno col patimano. Eccoli. Buono. Hai cancellato tutti i video, brah? Ehi, c'è il mio secondo. Ma... Ma... Ma chi è? Una missione? Chi è? Aspetta, chi sicuro lo dici? Secondo se è dalla fine qui. Non credo dici questo. Non ha molto senso. Ok. Ecco. Dai. Ti sento. Bravo, bravo. Ok. Bravo, bravo. Perché si vedete un po' male, però vabbè. Sciolla, dai. Sto già la nuova mappa, beh, sì. Già tornei, c'era. Ma no. Ma è vero quello di... Di Ben... No, di... Mr. Sevic, poi... O è ancora la vecchia, ma eh, non si capiscono. Non capisco da qua, sinceramente. Che mappa sia. Può guardare se è iscritto? Sì, regà. Riguardo. Ovviamente devi iscriverti alla campanella e poi... Bas. Scrive la parola. Prima 132. Cosa 132? Sì, è double edit. Bravo. Madonna, brava, è aperto. Bravo. Bello, sappia giocare. Che vuoi fare a te? Che cazzo si vuoi fare? Non so. Eh? Non so, non so, non so. G, G, 1, love. No, abbracci. Tutti fatti calcare. Questa era l'inizio. Ma che... Cosa. Grazie a tutti. Aereo plano Ragazzi arriviamo a 40 like Ne mancano due dai 40 like Siamo tutti più felici Grazie Prego Aereo plano Best warrior Best warrior I don't know I'm part player Che non sai ridare Pop it up Bravo Perché il part player Non sai ridare Madonna Off No Vieni Non è pia Copia Cioè tu No bro Ricarica Vabbè Che sta scaricando Eh Per S Song Abus Non so come si chiama Chiedetegliela a lui Chiedetegliela a lui Raga Eh Cosa No no Sto per l'amica Te Madonna Io giocherò a mk e pad Mazza doppio Non te pici Ti confondi quando passi da uno all'altro E' come me Ti va Ti va Ti giochi poco Sì 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 No 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 Ok Ma lei sta per crashare Addirittura perché Il mio abitrama mi dice ok Gesù Cristo Buongiorno No Forse a te fra Qua va bene Posso riga fare Gisca i video Perché stavo facendo una partita E' stato forte e incontrato con l'obb Tutti i contenei e butto la tasta e non si è rotto Ah Che famo da Non nemmo ci faccio 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 Dario sta assurde su sua serie Sa qua Se no parlamo Basta giocare Non nemmo ci faccio Non nemmo ci faccio Oia Da non so Quanto è Un bel po' che giocavo Venerdì tredici Non mi sapriva Venerdì tredici E che hai giocato quando sono andato Ho giocato a COD Poi ho provato Forno Facciamo l'aggiornamento A Kroonker Non ho fatto niente Perché Non è che mi sono messo a giocare A si giochi Bella bro E adesso si apre A sta botta Merdi tredici Gun media Entra in Entra in Alla Soffro affrettato Partì la rabbia Io vediamo che funziona tutto Ciao 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 No No Anche se cerca la partita Mi dai, voglio un bacio Mi dai, siamo amici Sì E' un uomo Ti è Mi ragisci Oddio Voglio cambiarti No, avrò muo Dario ha visto i video per due ore e mezza Mi perdiamo più Caso meno volo di fame De no Ma che stai imparlato tutto Ah, prima il gioco Ti prego Ok Oh Ah, non so ne parlo Ti c'è che pizdischi Kim, c***o, c***o 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 Na Sì Na Tadadadada un calzino non credo io possiamo lanciare addosso non ancora non si può saltare bella bella ria questa arma mi fa male allora e tu sei mia sorella gemella madonna il tuo sei brutto ah non dove vai non vedi che già morimo non vedi sento questo è tra solo dalle porte andiamo via andiamo via andiamo via dove vai no c'è sta caracorrente oh madonna non ci vede una ceppa non si vede da avere una ceppa c'è un cane si il gioco non si vede niente che schifo non vedo niente c'è una torcia minimo l'armadio madonna andiamo qua bella mia bella bro chiusa la torcia chiusa la torcia fortificato dai 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 tu c'hai la torcia bravo io no la torcia eh beh beh fa la pecora cioè io mi sono fatto male dal nulla va bene che schifo che schifo di gioco nessuno mi ha toccato non sono fatto male no sono letto io e niente e però ti ti sei fatto male per il colpo della finestra rotta mamma mia finestra che inizia a cercare a getcare vado a pc sì ma scialla chi cos'è allora perché non devi la vado su pc scialla sta a dormire sta a dormire eh che controlla la valla della vacanza di cercare gold gold sto giocando è due fia sì che è non so quello che fa più male muo vengo prio eh aspettatemi io sono un po' più lenta però cosa c'è di più oh è saccarmo sul lento e apri ci dove c'è la benzina questa amata dove vai con la benzina è la benzina che non ci sono il torneo non solo di prova c'è la letta ps4 e poi da giocare che cosa che ha che ha fatto oh parla dormi in piedi ciao ciao non mi bocca io oggi ho hanno stampato le magliette per il mio team bravo bravo certo qua c'è la la macchina ovviamente loro vanno più avanti stupido adesso sono messi ma quando si è stupido c'è niente da fare vieni crampo al dito oh dov'hanno questi questa è andata qua sotto vabbè non ce la riesco più niente manca tutto manca eh non lo so dove è Jason non lo so morto non c'è non c'è non c'è non c'è non mi corre più ma non mi corre non mi fa più niente che palle oh ma perchè sta così niente bella ogix mi corre qualcuno è stato magnato stupido jason però ma il cronometro non c'è niente quanto tempo manca il cacchio e se può lavorare con la retagione miglia dellì Ah 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 Che come sono morto Oda No No senti lui sta dormi Eh Come sembra Ah Bello Nico Non c'è più Non c'è più Non c'è più Non ho capito Vedete gli altri che stanno a fare Perché Jason Non so neanche come l'ha ucciso Si capito Ah Che pompata Corri che sono giù Ho 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 Come stai Come Questo avevo abbastanza di difficoltà Oh madonna Il palline A Si 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 manca troppo jason è un loser ha 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 hanno vinto non ci credo jason lasciare mai ma chi mamma ma non mi ha detto il trailer sinceramente lei va del lugar oh ao Dai, dai, vieni Oh Star, dormi Così va questo qua Da, Dario Au Eh Vieni Andatezzor e stai li detti Stai lente muovi Od Sono mello io Eh, che fa, morga Dite-mi delle idee No Se rompevo, se non favo niente Dammi qualche idea su qualche gioco Cosa favo? Oggi per il tempo sono là su tutti i 1000 gici Non so se ci sto Che favo, raga Ditemi voi Allora In senso, guardi il torneo Non lo so Forte tipo No, forte io Ma sempre Fortnite, raga Conoscete altri giochi Il tuo Fortnite Ah, caglieto male Lo so io Cambiare senza sempre Fortnite Cos'è di diverso Lo guardi Lo guardi e se lei Sotto dice Si, capito, capito Lo guardi e se lei Dipende cosa hai Ci sanno quelli Se no Parliamo Arriviamo a 40 like Te prego Minecraft Non ce so giocare E' noioso Non mi fa divertire più Minecraft Di video di 13 Ditemelo Vi prego Dai un like Un like 40 Ora Solo uno Mine Qual è mine Grazie E ora Iscriviamoci tutti Attiviamo la campanella Scriviamoci tutti Attiviamo la campanella Ah mine è minecraft E' la proiezione Voglio giocare a minecraft Adesso è live off Vabbè ragazzi Io vado a tagliare Bella bro Grazie a tutti Arigua Arigua Dà, ti svegli, te prego. Dario, vieni. Hai fatto una mezz'ora di sonno? La voglia? No. Non lo sento io. Eh? Ma va male mentre dormivo. No? Eh, perché? Eh, non ti devo fare. Mi sono del più dormito, della scoperta, della scienza del no. Ma che guardia? Scarpe, me cari. Me, me, me caro, eh. Scrap, me cari. Scrap, me cari. Ma ti dormi con la bocca aperta? Con gli occhi verdi, un po' di occhio fai. Sì, una volta. Mi immagini se spaventare. Ho detto... Stavo dormendo sì. Mi guarda che... No! No! Allora, raga. Scusate che viene se stava addormentato, oraccio. Ovviamente c'è sonno. Senti, si è addormentato. Lo possiamo capire, raga. Ho un po' in dentro. Camina, comunque si stava ingrassato, no? Cioè... Beh? Hai bucato la svedia. Sì? Sta troppo grasso. No, come sta... A me non è venuto sdraiato. Ma mi vede... Ma mi vede... Ma mi vede di come quella che lei non sta... Descrivando qua. Dai, 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 dai. Te ci sei... Noi vedi che gioca nelle macchine. Cioè nel D13 non gli... Cioè preferiscono Minecraft che nel D13. Spiegami sta cosa. Vogliono che gioca non mangi. Gioca... Non gioca a te. Uè. Tu non sei capace... Ti insegno. Fa schifo. No, madonna. Non piace. A te non piace. Non puoi dire che fai... Ma non è nico. Cioè... A te te non sveglia. Eh sì. Vieni, l'anni 11. Che figo, però se stavano tutti qua. Eh, che so. Eh? Chiama Asia. Allora... Non ho trovato nessun contatto che corrisponda a Asia e poi vi è effettuato la registrazione affermata in Asia. Per sapere ti posso chiamare. Apri la palazza. Tocca l'icona zacca nella barra incontro allo schermo. Prendi l'icona macchina nella parte superiore. E' la scusa del mio posto. Vado in giro con il pandilino. E' bello 13 ma non giocare da sola è noioso. Eh... Chi lo gioco con Dario? Vado con qualcun altro che ce l'ho all'anno. Oh, che freddo cazzo. Dario! Dov'hai? A freddo. Niente, tu dico a Dario mi lascia. Fa così, lui, te ne va. Wow. Vai in giro con i padrini. Quanto sta all'aria, raga? Vediamo. Eh sì, questo è un po' troppo basso. E' un po' troppo basso. E' un cappo di patate solo. Oh, bella. Non ci do le occhiaie. Oh, bella. Oh, bella. Ah, che so fare? Gira la lingua! Sono forte. E' specialità che non tutti sanno fare. Che stupido. Sire che... Sono un po' stanco. Ma che cosa sto facendo? Lei non so dove è andato. E' scappato. Molto probabilmente. 100%. Quindi... Noi abbiamo trovato una tecnica. Facciamo così. Facciamo così. E' parapeu. Parapepe. Dario è scappato. Sì, ragazzi. Dario è scappato. Dario non vuole. Si è addormentato. Si è addormentato. In piedi si è addormentato. Mentre camminava si è addormentato. Sicuramente. Lui cammina... Ti immagini addormentarsi mentre cammini. E' brutto. E' impossibile. E' brutto e possibile. Però Se tu ci pensi Ma che cosa sto dicendo Non credo che sia possibile Addormentarsi mentre uno cammina Cioè Non è che sarebbe figo Però sarebbe molto strano come cosa Eccomi buongiorno Bella wizard Bella bro Ma ti chiami wizard Bella Wizard si Buongiorno bro Ti sei svegliato a un ottimo orario L'orario è giusto? Per Mi chiamo Filippo Mi chiami Filippo Va bene Filippo Firmo Mamma mia Troppo le palle Vai in live Noi ti lamenti del rumore E hai freddo E l'aria E hai sonno E Mamma mia Quanto doppi le palle E' caldo Ma che è sta puzza Arriva Dario Andiamo Oh Dario Oh Oh Dario 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 Dai stiamo un 20 io mi seguo sempre le sei madonna 7 ore allora facciamo un po di giochi dai che giochi potremmo fare no minecraft non lo vogliono fida di minecraft si annoiano non mi rompere i pupo ragazzi ancora basta dio santo uno al giorno finiamo un gioco cacchio appunto finisci il gioco adesso finiamo un gioco finiamo un gioco aria il gioco che finiremo oggi cosa è impossibile sarà rullo i tamburi prego ma che so quelli da rocchi i tamburi questi cazzo fatti che è tutti spacchi e sfasciati so non va bene voglio rullire i tamburi per le proprie quindi stavo stavo dicendo io non c'ho voglia dire con te e il gioco sarà non lo so raga c'è nel senso io che fa cod però non si può finire cod non c'ho ancora e ma chi ti noccià nocci Reganatio. Sì, non mi sento mai. Perché io parli troppo sto buono, mi fanno più. Ma era Simone Ricchino, sono nuovi, con chi si viva, lascia la s. 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 Ok, bro, è un ballizzissimo, S. 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 Allora, ma fu you? S. Ciao, Tellini di te, tra, mi raccomando, scrivi di te da camprano ogni iscritto menton This minuti abbi a roma cacchi il fatto ma la serie gis porti ai sacrami su pc e no aria quando gesti qui vediamo il figlio non mi rivedo un video Adesso No ieri sera Ragazzi Stronzo Puglio che te l'ho fatto un video Bisogna aggiornare Minchia Eh lo so ragazzi Un gioco è pauroso questa Permetti divertiti Se lo butto tutto giù No 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 quanti scherzi in più fratello ricevo Quaranta minuti in più Arriva a 55 Stacca 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 8 ore 10 Scusate regà Ok Allora Fin qua è tutto normale Devo andare A rispondere al telefono Buongiorno Beh Inizio a ricordare Come ti piace il mio gift? Gli piace? Gli piace? Gli piace? Angoletto Angoletto tattico Perfetto Perfetto Aspettare Perché dobbiamo Dobbiamo rubare Una carta Una che Una che Ma siamo seri? Ma siamo seri? Non dormire Non dormire Te stai dormendo Te stai dormendo Guardate il video Guardate il video di come fare Dario Dove sta? Sono affiato il video di come fare Dario Sono affiato il culo da Io aspetto qua Aspetto che riesce da dove è entrato Guardate il video Eccola che hai guarda Eccola che hai guarda Anzi ho 300 ragazzi Non dormire Allora Voi Eccolo regà Madonna mia Torna indietro E' cerchiato là Ma questo si trasporta voglio Entrarlo dentro E' sparito Eccolo E' arrivato alla No, A1 no, B9 no B7 nemmeno Dobbiamo avere i marroni E' che polle Almeno adesso abbiamo la scheda Mi agisci No regà Adesso si giocava un attimo Porco due Almeno adesso Abbiamo la scheda Iscriviti bro Però nel frattempo Che tanto ogni giorno C'è oggi Iscriviti Quindi tranquillo Allora regà Adesso abbiamo la scheda Quindi già è una buona cosa Che prima ci abbiamo messo tre anni Non sapevamo dove Quindi buono Siamo molto contento Quindi vai Abbiamo la scheda Yes bro Allora regà Allora regà Ok Oddio Oddio Sono in una stanza Non ci sono entrati Oh cacchio No regà No regà No regà Bastard E che cazzo No questo gusto Non si va pure in event Basta Siamo già arrivati Ad un certo punto Non vogliamo dire Di infarto Tutto oggi Ok Il ragazzo Molto sano Dovete capirlo Il ragazzo Impegnato Oh abbiamo Abbiamo sbloccato Gli obiettivi Si E vendiamoli Vai vai Andiamo a vedere se qualcuno Ci ha pagato Non ancora nessuno Vendi un oggetto Ti Vendi Andiamo a 0,5 0,04 0,04 Vai Ok Ecco perché vogliamo giocare Ragazzi Che così facciamo gli obiettivi Allora regà Io voglio fare Rocket League Insieme con Io e Kevin Quindi aspettate Quindi aspettate Ah Dio santo Ok Ok Come si gioca Agisci No Regà Ma Ma Gisci Ma E Eh Che Che Tu Vuole Sano La fiamma Grazie a tutti. Ma che è? Non mi piace molto. Ciao Drigg. Ci stiamo arrivando a Sandro e anche in un voto stanchi. Ci stiamo arrivando a Sandro. Ci stiamo arrivando a Sandro e anche in un voto stanchi. Ci stiamo arrivando a Sandro e anche in un voto stanchi. Ci stiamo arrivando a Sandro e anche in un voto stanchi. No, no, eh, vabbè, ma che è? Esplodono tutti qua, no, 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 no. Qua esplodiamo tutti, ragazzi. Come mai avete avuto qual... Il portale... Ah, ragazzi, non siamo fratelli, no, non siamo fratelli. Fidati di me. Ok, boss X, large. Bossa mode, fast. Ok. Fatto. Vai, quasi perfetto. Mi agisci, mi sono iscritto. Grazie mille, bro. Reaggiamo dopo, raga. Circa fra... 20 minuti. E' un po' che viene silvato un attimo, ragazzi. Poi dopo reagiamo subitissimo, tranquilli. Non è la palla, non c'è la gravità di un testicolo. Ma che è? Ok. Cosa? Vabbè. Te dico, fermate. Noi mi facciamo così. Eh, raga, non mi piace. Noi mi facciamo così. E' molto vero, attivo 120 fps, 110, non tanti. E neanche pochi. E' un bel portatile. Ok. 3, 2, 1. E' un bel portatile. Ok. Ma che è sta cosa? Perché si fa real? Dio santo, raga. Ma... Esco muovo in posta una partita. E' un po' stupido. Default. Default. Ok. Mo' dovrebbe andare, no? Basta. Non mi ha più, devi cambiare. Che papo odio sta mappa. Eh, no, madonna. Ma che c'è? Ma che è? No, vabbè. Tipo Super Mario. Che figata. Ok, la palla non deve entrare assolutamente nel blu. No, mi sa' passare sotto. Lo sta, lo sta. Ok. Ok. Che fa di gaccia a giocare così? Ok. 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 Madonna mia, riga No Non, 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 non No, è Poi così è troppo complicato Io gli ammattiamo male Non voglio roba strana Cioè Ok Ok Noi Non, 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 non Infatti scherzi di canza Non sappiamo che cazzo vuole Vai, non ti dormiamo Eh? Non ti dormiamo No, carino Di poco No, carino Che cazzo vuole Giochiamo Eh? Giochiamo, giochiamo, giochiamo Non ti dormiamo, che vuoi vanno? Giochiamo E faccio vuole Una parte Un'unitiva 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 No, vero Quante figa sta cosa Che due Eh, lo so, ragazzi Eh, è vero Non so che cosa fare, cioè Gol, 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 gol Sì Guarda che gol che ho fatto, ti è Guarda, guarda, guarda Boom Visto che faccio bellissimi gol Oh, madonna Ho capito, ho capito, ho capito, ho capito Mettete uno in porta, ragazzi Quanti anni hai, io 15, ragazzi Ok, in 16 Vai, vai, vai Chi è Tiè Tiè, voi la sapete fare, ragazzi L'Areal Hit Io sono troppo forte, ragazzi Non sia Siamo un'astronave Ok No, 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 no No, 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 no non c'è successo tutto così strano non so sto con l'unica allora la nostra la prossima delle iscrizioni sono aumentato no abbiamo farsi due in italia che io dovremo togliere il tempo e' pratica no ragazzi 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 che anche io le dormivo non possiamo ci bagnano no che abbiamo già dormito non possiamo dormire di più basta hai dormito apposta 4 ore e mezza io ho dormito meno di due non è un posto di che io so più specialmente però non e' che dobbiamo dormi così tanto basta famo così leggiamo il piano va ci vediamo il mese tutto il programma allenami ora eh no domani e te che fai dormi? ah per questo che mi vuoi fare no no perchè ti fa bene no perchè vuoi dormire puoi dormire sì certo sì anche se io ma lei non te non dormi parliamo con ospiti chi invitiamo? blu s eh? vediamo blu s mia madre mia madre al momento non e' raggiungibile cad? chi e' cad? mi ha già spiegato di ok ok quasi quasi chiamare blu s237 giusto per parlare visto che non hai tra ospiti però però ok ne facciamo sì oh kevin sai zitto allenati ti do 20 minuti di sonno e ti alleni? no mi alleno dopo io e ora? ora faccio una partita a cod fai schifo ok ma sai te che fai schifo sei sempre addormi gioco santo ti alzi e pensi a dormire subito il mio brise no rega non posso e adesso non regisco regisco dopo adesso stiamo facendo il gioco mi stiamo giocando cioè secondo me darmi troppo cacchio cioè secondo me darmi troppo cacchio eh bravo Dario del passato eh bravo Dario del passato che capelli di merda che capelli di merda vabbè Dario a che ora reagisci? ma penso sul pomeriggio non penso prima vabbè vale aspettate ma terroia la coppia un attimo ragazzi E niente ragazzi Mezzogiorno E questa è la situazione Ok No favo una partita a cod Yeah Crasciato Ok Biglietto alla visita Italia No no Non voglio il padre Hi bro Approfittatene per fare pratica Presto entreremo in azione Frate mi senti? Vabbè No vabbè Anche adesso sto giocando Dai Allenamento finito Inizia la vera battaglia Anche adesso sto giocando Giochiamo insieme se poi broschi Ok Preparato Come se per un segone E via Allora facciamo il copio con questo Abbiamo dove se lo butta questo Inizia l'ospedale Inizia l'ospedale Ok Ok Stiamo inizia ragazzi Ma che due maroni Ma è crashato No No soldi, munizioni, mi servono gli scudini va sempre si trova, andiamo a pushar cassa di scorte individuata, la voglio in sicurezza non so dove, vi giuro, si sente troppo, non capisco tu minchia, fammi adesso mi fuggire, eccolo, no, 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 non ci credo, 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 non ci voglio vedere, io non lo vedevo regà, porco due, manco io ho sperato, si è un po' voto stupido, sono, vabbè dai regà, qualcuno vuole giocare con me? che è? che hai fatto? eh? no, non l'ho sentito come sei? dai, io spero che non ci avranno elimina il nemico o conquista l'obiettivo no io lo odio sto gioco che ti giuro ma che è questa prima volta ci gioco, non so quanto fango volò e rimpicciolisce la web fa un po' grande bro no, ho capito qual è cosa? l'ultimo cosa? quel gioco ti rimpicciolisci la web? no, era troppo grande la mia web, la faccia quali sono? undici e mezzo se vuoi facciamo una una qua una 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 e una cioè? se io uno scarico pure su quello giocamo insieme ma serve figo faccio? più avanti si però si ok potenzamenti da campo bro eh? hanno messo potenzamenti da campo bro non broski non trovo gli oschi vodka questo qua ragazzi è russo ok il bidon controlla dell'equipaggio messo schieramento e fine buoooo nice vedi che è proprio buono cioè muoio sempre non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è poi a mando che non vuoi non c'è ma lezeglio 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 a ci buttiamo esattamente qua guarda broschi c 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 mi sa che mi senti tuttando il russo mi vuole molto bene questo russi Zimbolko Oh Comunque Rússia 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 You speak English? Non Ok 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 i don't speak english ok ok posto che allora ragazzi qua procede oh my god ho fatto il in un 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 carriamo un 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 non funziona ma perfetto sono rossi sono rossi ok, sono in Italia sono da Italia sei da Italia sì sono da Russia ok in Germania sì 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 tu ok ok siamo nella zona sicura occhio ai nemici sì 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 bella rio comunque sono ciao muta sto dizio infatti sono scarso quando ho messo a sapere l'inglese poi ti fanno domande perchè gli altri non ti capiscono no eh sono sono nico comunque ah ok ok bro comunque fighissimo l'account sei l'ultimo del tuo team completa il lavoro ok 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 Grazie. No vabbè raga, sono un po' con hub Ma non l'ho visto raga Ma che figata, perché c'ho fumo, vado Non ce la farò mai bolaga, diventa che armi mi danno Vediamo che armi ci hanno questo Ti faccio, dammi un mito, dammi un mito, non mi danno un cecchino del cazzo Ti prego Ok, famas Dai Che cecchino schifoso Elimina il nemico o conquista l'obiettivo Dai, ma io ho sparato prima io No, non è vero Oh la bella dark Ciao Come va raga Siamo rimasti solo noi Scommetto che almeno uno ce la farà E niente raga, sono entrato su questo account, tutto bene Ma non ti canto ciao Niente raga che ancora dorme Ma lo so Ma lo sa te ci rende qua Eh, forse no Forse no Raga, fra poco Raga fra poco fammo un allenamento Un bel allenamento Raga fra poco fammo un allenamento Nemico in discesa nell'area operativa Raga fra poco fammo un allenamento Raga fra poco fammo un allenamento Allora, oggi vorrei fare un po' di petto Anche se che dominali Danza non mi faccio Però vuole fare un petto ragazzi Vuole fare molto un bel po' di petto Ander Quality Battle Royale Indica un punto di lancio per il team Mmm Attenzione Gazi in avvicinamento Procedi verso la scura Alla nostra zona di lancio Pronti Qua è aumentando È aumentando È aumentando dai 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 che l'uccido dai che l'uccido dai mannaggia me va troppo furbo d'aria sei ma già me va beh niente ok come si è nel massimo buono mi piace è troppo pesante ci sono cacchio e munizioni ok vai un lanci razzi mai preso ragazzi questo ovvio perché ci sta lanci razzi per una volta si può usare eh si può fare di stronzi ok quello verde perfetto missioni apri ok tutto a posto vai andiamo andiamo dai miei amici non vedo più vabbè niente troppo distanti vado dai miei amici bello gix in movimento serve a qualcuno kit medico fondamentale pistola non mi serve che cosa che era bene raggiungi il bersaglio c'è già qui c'è un venditore se serve non c'è un'altra non c'è un'altra non c'è un'altra Quanti soldi mi ha dato Qua via libero Oh le piastrine Non solamente una Ok Perfetto ragazzi Ho visto uno Aterrare prima Se lo becco perfetto Se no Cassa Che nostro amico sta giù Io non lo mi dico al centro Mi sembri forte No ragazzi sono un nabbo Ora sono a editare un video Sono curioso di vederlo Mi dico che in verità sono un nabbo Un dramadonna Però nel senso Me la cavicchio Ma che ha preso un nabbo No vabbè Fammi da indietro Ok Ci sta gente Ho trovato un veicolo Ritiro tutto Ok vado là Non c'è qualche soldo qui Non ho capito questi Qualcosa vogliono fare Non mi piace scrivere Mentre Edito mi rilassa Non mi piace scrivere Mentre Edito mi rilassa Allora bro GG Per te Ehi Qui vendono equipaggiamento Ti serve? Eh Vediamo Maschera antigas Ok 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 Tutte le bestie Nelle case Oh yes Adesso si che si ragiona Ragazzi C'è un bel C'è il mio mitra Il mio bellissimo mitra Ecco un bellissimo Pompà Ok Ok Dai Dai Questa qua Deve essere giocata bene Raga io ancora Non ho beccato nessuno Cosa siete a fare? Stiamo giocando Allora Allora Mannaggia Mannaggia Il nome è vero Perché Allora Aspettate Fandemi finire sto fight Dagnati il rientro No vabbè Vaffanculo 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 Odio sto gioco Il tuo tempo a pagare per il tuo rientro se hai soldi No No ragazzi No ragazzi è venuto No ragazzi è venuto Allora ragazzi il nostro nome è nato da un paio di fattori Inizialmente Inizialmente A lei Che la piaceva dato questo nome E niente Non l'abbiamo messo sul canale Cioè più o meno come fanno più o meno tutti No? Niente che poi questo nome è diventato un po' più virale E varie cose che sono successe in successione Però Mi piace un sacco Allora Ottieni i lanci dai corazzi Sovrappini Agli altri team Faccio l'ultimo Battle Royale Kevin 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 Ti sta chiamando tuo padre Ti è Dai Dai No No Pratico Mi ha preso il bel posto Vieni Papà Ciao Ciao Dai No no Io ce l'ho alle 7 Della lezione Sì Eh non credo Anche io di ora C'è chi poi c'è il nonno Approfittate per fare pratica Presto entreremo in azione Non lo so Ma non va a madonna Non è Così Ma non è In�� Rouge Lo so Ok Sì La no battle royale gas in avvicinamento rapido andate nella zona sicura ecco la nostra zona di lancio pronti fuoco autorizzato su tutti i bersagli e Grazie a tutti. 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 Su Amazon. Grazie a tutti. 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 Ok. a tutti. Dai a tutti. a tutti. grazie a tutti. Sì, potrei aiutarti, bro. Però non c'ho molto neanche i giorni, fratello, sincero. Che merda di partita. Faccio cagare su quadriga. Stefanino78. E poi mi devi dire un'altra cosa, come ti chiami, cioè, hashtag di tutti i codici. Capito? Appena è tempo, ok, ok, va bene, ti aiuterò. Che è, fra quanto ti alzi? Fai palestra, amore. E quindi te riposi? Certo. Precita. Dai, fai palestra, almeno digami. No, te vuoi che faccio palestra, così te dormi. Che cazzo, non è vero, fratello, faccio tutto bene. Ma vangolo. Penso quando lo devi andare in piscina a casa. Hai ragione. Farò l'ultima partita con Stefanino. Poi un bel allenamento di colore. 3-4. Sì, sì, sì. Sodo, sodo. Giungi amici. Allora, account of vision, dimmi come ti chiami, bro. Io in un caso mi metto lo scar. Lo scar è buono. Questo pure. Laser, ma... Cazzo ci se la faccio con il laser. Specialità. Specialità, carico massimo. Ovvio. La voltata silenziatore non ci faccio assolutamente nulla. Però, vabbè. Sottocanna non ce l'ho. A posto. Personalizza, amimetica. Però solo questa, può scar. E vabbè. Perfetto, ragazzi. Il secondo arma non voglio un pompa. Ma voglio un cerchino. Fucili di precisione. Molto rapido. Mobilità deve essere alta. Molto alta. Questo. E ancora non lo ha sblocato. Questo. Armaiolo. Ottica. Manco che posso mettere ancora un... Niente. Posso mettere niente. Vabbè. GG. Vai. Stefanino78. Sì, però, ma vedi l'hashtag? Non hai capito. Non hai capito. Sì, però, ma vedi l'hashtag? Non hai capito. 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 frate allora aspetta guarda qua devi andare su gli amici aggiungi amico no e te mi devi dire il tuo username il tuo ecco qua vedi darko 187 hashtag tutti i numeretti se no non posso bro fatto bro quello dove c'è scritto user frate no user qua leggi allora basso centrale batterio quadretti qua in alto a destra livello a fianco il tuo nome con la hashtag in tutti i numeretti capito che c'è chi è che c'era da come alle 5 del mattino mamma mia non si vede frate io lo leggo va bene allora vi invio il mio vi invio il mio il mio è voi fate vi invio amicizia vi chiesto da d'arco hai la web lo so è vero guardate qua raga vedete livello darko dattino basso hashtag 22 ecco questo è l'hashtag ragazzi questo è l'hashtag dovete mettere quello insieme al nome attaccato quando me lo scrivete se no non posso trovarvi vedo da bene non c'è vabbè allora raga vi invio il mio raga faccio una massimo 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 due partite con voi raga perché devo allenarmi live quindi trattino basso 187 hashtag massimo 109 225 477 0 questo è il mio raga inviatemela voi si fa così raga si fa su amicizie aggiunge amico e scrivete tutto il nome che vi ho inviato io account act vision no play no battle net no niente vedete raga forza beh raga ditemi quando avete fatto quindi con un piccolo modo gioco raga come si fa a indicare qual'è il tasto di indicare armi armi oh ecco che in mente bro bro fra mi senti fra mi senti o stefanino non mi senti strano stiamo nella stessa parte aspetta aspettate aspettate opzioni audio audio voce chat vocale no chat vocale si si microfono aperto bro mi senti frate come fai a non sentirmi fra non è che mi hai mutato che ne so ok bro tranquillo ma strana sta cosa ti giuro strano che non mi senti che qua c'è scritto io sto parlando come fai a non sentirmi cioè parlavo con i russi vabbè se te non parli non è un problema è importante che mi senti te bro mi senti oh aspetta abbandono io il party tuo fraccetti bro Alexa come si allenano gli addominali purtroppo non trovo la risposta alla domanda Alexa dimmi un allenamento per gli addominali così poi si può un interso è lost vabbè io ti invito alla richiesta di partecipare a lezioni di tutto parti bro mi senti pubblico non capisco non capisco non capisco fa niente regalo c'è la limite non capisco sta cosa più che altro beh dai facciamo copie a ok guarda il video ragazzo gioco un attimo non mi allievo capito bravo mi senti? ok un secondo ti ho sentito vi siete addestrati abbastanza adesso si fa sul serio vai a dare la shot infatti scusate tanto non sto leggendo la shot allora tu ci buttiamo bro dimmi te di un luogo io ne dico un altro dai vediamo ok vai 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 non lo vuoi usciamo poco di brutto dai guarda 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 scendiamo scendiamo qua scendiamo qua ok perfetto l'obiettivo principale è l'eliminazione ma che è una pistolina c'ho ma che è ma fatete pure all'allighelli sta pistolina oh almeno c'ho questo vai mi tengo la pistolina per il cecchino vai scudi scudi mi metto subito ragazzi perfetto non è un team nemico vi insegue aia ok non li vedo vai famo un salto ok vado la cazzo ritiro tutto dai dai non vedo nessuno mi sposto qui mi sposto qui vai vai cazzo ritiro tutto non hai fatto un po' di parkour libero 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 se vuoi hai scudi se no te ne do io qui c'è una protezione ok perfetto ce l'hai madonna so pieno di scudi se no tre su dmg scarico in testa i nemici c'ho c'ho una roba che lascia aperte enorme Vedo movimento No ragazzi non vedo niente Cazzo è vero Arrivo 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 Scusa scusa Aiaiai porco due No no Cazzo No Dai ma allora c'ho la bocca di vita Fanculo va Dai dai Ce la puoi fa Con fine te Che palle Stava andando bene Anche se campuravamo un pochetto Però MD Dai 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 Stava dietro di me Non ci credo Non è ancora finito Il tuo tempo a pagarti la cauzione Che best Che best A trovare i soldi per la cauzione Mi chieste 4500 e vabbè Sai quanto ci vuole Mi trombotto le soldi Non ho finito Che cos'è Che cos'è la cauzione Non ho finito Ti faze Che cos'è Che cos'è E dai, gioca un bel mitra Che cool Bella raga Ancora iscrivete dalla campanella E dai, gioca un bel mitra Sto vedendo, regalo, se ce la fa Li può salvare, non so se ce la fa Qua si, 4500 Sembra di si No, bro Bella raga Attento, uno a destra, uno a destra Sono due, sono in due Sì, attento Bravo Cazzo Vabbè, dai Eh? Vabbè, dai Bro, senti, adesso io vado a fare la live d'allenamento Ci sentiamo l'imite stasera Tanto continuo a giocare, tranquillo Bene Bella, bro, dai Ok, è già uscito dal party Ok, è già uscito dal party A posto E niente raga No È uscito nel desk No È uscito nel desk Yes Bella, bella Ok, allora C'è un mal di orecchie con queste cuffie Che non avete idea, ragazzi Ecco qua Ce la faccio una morto-cadaverica Comunque sembra Grazie mille, bro Grazie mille Allora Vado a prendere la Red Bull E torno subito Oddio raga Mamma mia, ragazzi Sto a pezzi Quanto dura l'allenamento? Ma tre e mezz'ora Quaranta minuti Allora raga Adesso vado un attimo A cambiarmi A fare una chiamata E poi Cominciamo Quindi lascio la cosa Di allenamento Se non uscite Mi fate un favore E niente Mi torno subito Mi torno subito C'è un mal di orecchie con queste cuffie C'è un mal di orecchie con queste cuffie Lecce Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti 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 Perfetto Grazie a tutti 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 Ecco Grazie a tutti 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 Okay Ok Grazie a tutti Via Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Vedete Grazie a tutti Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Push up Ok Forse Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Ok 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 Ciao Via Ok 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 Quindi So Sto Vai Grazie a tutti Ok 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 Grazie a tutti Ok 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 Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 Wow 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 60 like Yeah Si Yeah Buongiorno Yeah Grazie a tutti Yeah Grazie a tutti Yeah 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 Grazie a tutti No Yeah 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 E' un po' di 580 euro. Che f***a Beh, quando c'è soldi vuoi fare la teoria Non sei dimonissimo Tutti adesso fanno sui bellissimi Non c'è i giochi e i miei grazie Vieni Eh? Oh Ok, due, uno Un'altra Stupido Eh? Cosa? Eh, buonasera I suoi passaggiati Di loco quando scrivi Quando scrivi, quando scrivi Vieni a giocare il tuo messaggio Oh, oh my god Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Ma No 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 Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta Bello, bello No Bello No, beh Video Ragazzi, se vuoi essere giro per voi, mi ha quando iscrivetevi che ti ha della campanella Ok Dario Guarda Non si vede Perché 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 e lo fa schifo no raga non ci credo, devo rivedere la capo perchè c'avevo la fotocamera grande no vabbè che brain che c'ha questo ragazzo però non te lo reagisco bro perchè l'ho già reagito però dà fastidio questo filo ora giocano a cod più grande sì così no vabbè che c'ho fatto ero storito zio ero storito si bella fastidio più per di 3 cinese di merda no raga non ho parole no perchè mi ha attaccato e ha perso stupido no 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 guarda ho abbastanza per aver paura chi gioca a crash of clans raga? no no ma no hai aperto palestra hai aperto telefono fotocamera senti stati calmi hai aperto twitch ma che twitch? twitch hai aperto te caspè ragazzi moncetto 8 caspè ragazzi gioca warzone sono a me va a scatti mi reagisci ora chi è più bello io io puoi dire al mio iscritto con la campanella like e chi non si sa chi è che botta grazie comunque chi è che botta ragazzi? che belli bottati ragazzi le voi che ce li buttate infatti non siamo così sfigati cioè che le voi che li buttate ce li buttate raga fammi così facciamo una bella partita a cod vediamo che è più forte ma che cod che cosa? ci ha giocato 8 ore vediamo che è più forte su quello vai che cosa vuoi fare dimmi vedi che ha scomando tutto il telepad vedi con l'ipaderina ebbè tutte le telecamere ma ronna domagna Sasha rubetti di pollo si è portato eh? si è portato un rubetti di pollo 1500 bit no vabbè ah ma stanno tutti vicini 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 si 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 contà per esempio questo tavolo postazione Sasha quell'altro tavolo postazione anima e vabbè l'hai capito? e poi ce l'hanno davanti al 2 e 2 davanti no guarda no vabbè no vabbè ragazzi è troppo figo andrebbe organizzata tipo così mi agisci certo ragazzi ecco metteremo grandi si più avanti ora non ti addormenterai e ti farei un po' di soldi mmm bene per quanto riguarda il mio canale di mezzo ci saprà l'intimbo solo live scherza e le conservi e le rimi eh 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 è ovvio ci pare io c'ho il culo sudato io c'ho il culo avrei pensato un game e uno vero madonna no così spedifici ci vediamo da fischietti nei cittadini lei ti sta grattando il culo è vero e il pacco è vero è vero prima perché facciamo sempre la gisca i video dai io non c'è bisogno non c'è bisogno ma se voi guardate un po' è figo 1400 ah ho capito che ho regalato 1402 abbonamenti ho detto vabbè si no 1500 bit no era un abbonamento cosa ho mangiato i bit probabilmente sono i punti sai che quando tu guardi che ne so power ti da dei cerchi è quelli no no bravo fra un momento un momento un momento un momento un momento davvero regala questo è l'ultimo un po' i passi eh eh allora spegni quella spiaggia proprio spiaggia proprio spiaggia proprio spiaggia spiaggia tutto uguale spiaggia 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 fanno un parolino vanno sul divano bravo ecco sto aspettando una vecchia vabbè secondo me sto aspettando la luce di un e come guarda per i primi e come guarda per i primi e come guarda per i primi è perché mi piacciono e allora facendo tutto questo non abbiamo un'altra sulle xx e poi ancora in contatto e poi ancora in contatto e poi ancora in contatto e poi io iniziavo non so questo c'è non so più quanto mi fa luce bella bella non potessi salutare mia cugina di capocchia addio che capocchia l'ha detto c'è meno di segui molto pure 2 euro ogni ora no fai 10 ore che si è preso e questo 20 euro su qua cazzo che sono questo? ma quanto schifo? affatti in pochissimo ma ma non entrare raga giochiamo dopo al warzone adesso ci stavamo un attimo leggendo i video raga no eeeh sedi ok crack ecco ecco è troppo bella sta cosa del tastino è geniale cacchia che è? che si capito ma wow 4220 iscritti gg bro g g g g io consiglio di farci un po' scommetti ti conviene su di noi frate filati ti conviene ci dienti sedia sedia eh infatti perché sedia? mamma io ho fatto veloce ma la madonna oh guarda che roba questo è un po' scorrere porco schifo questa roba è spaggia bellaielt mi sono solo alla seconda eh ma che stai? cosa? è la prima o è la seconda? questa è la seconda te ne manca nanta che sarebbe la terza Tu l'hai bevuto tutte? Si Io li sono trattati No ma qua è velocizzato bro No frate ma che è sta E' lui? Non vedo sono io che ho messo velocità per 2 Che stronzo Ah madonna Io non pensavo che ero così veloce Guarda Io non capisco Anche sta cliccando E' una bestia Joypad Ragazzi si merita un applauso Si che è ovvio E' impossibile joypad L'ho visto Non ci ho fatto caso Non è possibile che farti così tanto ragazzi E' una bestia C'è Un baffo Un baffo è un nabbo Non è bravo a fare queste cose qua Lui è tipo un credit player Baffa in più Un baffo è 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 un b Caccia la foto Ok ragazzi giochiamo Kevin Fa una stronza Non mi ha risposto Fa una stronza Ah si c'è una risposta Bella per Dario morto Hai un dito fra Cura e una in bocca Ma che? Eh sto video Ma cosa che cazzo è successo? Eh io mi ho andato un video quando ho detto i miei Guarda i miei rega dovete attivare la campanella Davvero? Si ho fatto una duraccia Perché di sei così coglione? Perché scialla Io non ho fatto il video su di te In senso Ma no sto scherzando mi sono inquadrato io Che mangiavo così No non io mi sono inquadrato Mangiavo il suo cosetto Il gelato Pensavo il suo gelato E stai così Ok io? Si Stai a dormire Ma quando? Ieri fa Ah ne hai preso un altro? Ne hai preso un altro? Ma quando è stupido è stupido Non c'è niente Ecco Dario Oggi Alle quattro e mezza Ecco Camino Tutto oggi Almeno non russa A differenza tua Si si Che no C'è un po' così Ti immagini che figata? Io non so portarei No io sto scherzando troppo Si sta un po' di regalo Oh Per me è aria calda Bra No si sta un po' di regalo Regà mi sa che abbiamo messo aria calda Che fate ora? Guardiamo i mates Regà Ma però sarà a mangiare Non c'è niente di divertente No ci giochiamo Ci giochiamo Eccola 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 Io l'ho già vista Sudirla è bene Bella regà Che famo Se volete che giochiamo qualcosa Guarda un altro video L'ultimo E' vero E' da serio Un colore diverso No vabbè Cioè ad esempio Stefani Tassiera rossa Mi capo non rosso Ani No vabbè Che generata E' vera che se ci succede tutto Sì Vabbè Vabbè Vegas Una volta fra C'era Mary La prima live La conosci Mary? Quella che tu dici che è Stava così fra Stava con la conna così E gli si è visto Vegas che cosa fai? Ma non lo toccano niente E poi uno ha detto Chiudi le gambe Uno che stava In like con loro Sì fra Vabbè Regà l'ultimo poi Anna ma fa 9.850 iscritti Lo posso guardare? Lo posso guardare? No Perché non viene Fra non te guardo Perché non possiamo guardare Gente troppo famosa No ci fanno C'è una figura di merda Non abbiamo scatti noi No regà A parte i scherzi Non si vede il video E vabbè Comunque non lo posso vedere Comunque Comunque Perché regà Non possiamo guardare Gente con la monetizzazione Per una lunga storia Quindi rip Per te È rotta Ma regà guardiamo i mates No Metti il gioco Ma non c'ha senso Le mates È divertente Noi siamo diversi Capito? Sì Che volete guardare Allora Guardiamo I mates No No solo perché Non so perché Non so Mario Mi hai messo in gioco Oh e stai zitto Stai sempre sul divano No Brutto pollo Scatenato Ma non è vero Io devo andare Guarda me Word No regà Basta guarda gente Ti prego Basta di iscriverti La campanella Ovviamente Lamentiamo il tempo Come sempre Ti giuro Questa non è No ti giuro Che questa non è la password Perché quella è la password Dell'esempio Sono abbastanza sicuro Ok ok regà Bravo vedete Che mette la password Da dove sei tu Ma avete un pc Per due persone Oppure avete un pc A testa No abbiamo Un pc A testa fisso Poi vabbè Pure uno portatile 5 in coda E lui c'ha l'xbox E io l'apri Poi basta Ok perché abbiamo tutto No è vero Non abbiamo proprio Che incazzo Solo che il mio è 5 No il mio è 7 Quello di Dario è 5 Che ovviamente è peggio Ragazzi è meglio il 7 O il 5 Visto che lui dice che Il suo è 5 E' meglio il mio I7 I7 E il suo è I5 Vai Diremi voi I5 Vediamo 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 Tutta la vita l'I7 Che schifo l'I5 Che schifo l'I5 Meglio l'I7 Bravi Il tuo è il 7 Di nona generazione Bravi 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 Ragazzi ha detto che lui c'ha il 10 Io c'ho il 9 Ma comunque è meglio lì Apri il menu Voi assegnalazione Lo dite voi Dice pure le parolacce Il suo I7 I5 Scusa Ma cosa sta succedendo? Questi stanno parlando Bastardi Finalmente mi si è cambiata L'immagine Bella Federico Bonaldo Con lo stemma della Roma Roma sempre nel cuore Però non c'è più Totti Non me la guarda più 10 minuti in più No bro Nooo 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 Posso capire Qual è il nome del file Se 80% Quando una stella Guarda che non stava materiale L'ho aumentata Ho sbaglio Dio Stava due Dai Ne manca poche Ed è finita Scende nel creme No 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 Io quelli che si sono iscritti oggi L'ho già messi Se noi non arriviamo a 1670 Quanto stavamo prima? Bobbi 8562 Ma invece lui Test.pcm Perché tolto un'ora? Perché per sbaglio l'avevamo aggiunta C'è un'ora che ho visto prima Dove sa? C'è un'ora che ho visto prima C'è un'ora che ho visto prima Dove sa? Non ti lo dico Quanti ore mancano? Non ti lo dico Quanti ore mancano? Quanti ore mancano sotto le quattro ore ragazzo? Non lo so Non lo so Deve uscire Deve uscire? Deve uscire stasera? Deve uscire stasera? Dove vai? Ora vogliamo sapere dove vai? Ti vediamo Ti vediamo Ok raga va a venirci Dai 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 No ragazzi La password non è quella La che inizia con Ezra È solo una stronzata Quello che uno ha visto Che nel cosa iniziava con Ezra Ha proprio incollato quella Cioè non penso che Franz sia un Oddio Raga era morto se faceva che della Red Bull Era morto Madonna ma vai a prendere i pulcini Dovevi raggiungere 2000 minuti Con tutte quelle iscrizioni Ma è impossibile Tra 2000 minuti Calcolando la 10 quadrata di 10 Che sovrappone i 2000 minuti Li divide per 8 Poi Entra Gesù Cristo Le ne mette 5 Però C'è Federico che ne toglie 4 Quanti ne rimangono 1 Ho fatto il matematico Non so cosa dirvi Raga dobbiamo arrivare 2670 e 65 Rai Senti ti vuoi vestire È mutande questo babbino Ma che stai a di Raga qualcosa di Cosa succederà dopo Io andrò a dormire Io andrò a dormire Perché ho bisogno di rifusare Ah giusto È passato Tutto il giorno A dormire 99 51 Un punto E poi non so più Cosa Grazie mille Questa è l'ultima donazione Hai letto Chi ha regalato 100 abbonamenti Gruppo 9 Gruppo 10 Franza Ok allora Allora è la passo di Franza Vabbè L'ho messa Mi fai avanti Mi fai avanti Io direi ai ragazzi Di giocare un po' A comunque Chi ha detto comunque Vedi che si può fare uno sfigato Nero Dove l'hai trovata dietro Quella Non vuoi Non vuoi Non vuoi Niente ho detto Un ragazzo Un ragazzo Che ha No 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 Ma che cosa aggiungi Fra Ma che cazzo Giungi Non eravamo No Oh no Stai proprio qui Guarda 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 No regalo L'aggiuntore a casa Dai levale Ma non finiamo prima Che ti alleni Oh le levi Oh ti rompo il dito Una Alle 4 dobbiamo finire Ah per comandare Due Perché le 4 Perché ne hai aggiunte due Non ne ho aggiunte due ragazzi Sì ne ho aggiunte due Ragazzi Che ne sta truffando No io levo Oh fai schifo Una Una e due No 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 Ragazzi Kevin truffa ragazzi Kevin truffa Kevin fa poco schifo Fai poco schifo Fai poco schifo te Che c'è Devi dormire Kevin sta disturbando Il busino di Kevin Ecco qual è il problema Ma torna 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 un po' indietro Torna un po' indietro Torna un po' indietro Perché cosa Ma 5 Perché c'eri tu Però guarda quanto tempo è passato Mezz'ora Non è vero Sì Eriamo a 5 e mezza Ragazzi Ragazzi Io ho paura Della schifezza umana È un coglione Alta il dita al divano Stai zitto E vieni a dormire Tanto ragazzi Sa fare solamente quello Ragazzi Sa solamente dormire 24 ore su 24 Ti dirò di più Mi vengono da Red Bull No Così dormi Che la notte Fai i sogni spastici Ti sogno a te No ti sogni da solo Se i sogni spastici Ok 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 Più o meno Non so capire tutti i messi A cacchio di cano Allora ragazzi Vediamo che cosa possiamo giocare GTA 5 Mini 1 to play Minecraft Case animatronics Troppo complicato Call of Duty Mod Warzone Che dite raga Crunker Quello che cacchio vi pare Decidete voi ragazzi Che giochiamo Truffa Warzone Eh raga Vai Uno ha detto Warzone Ragazzi Vai Vediamo poi Eh lo so Uno Warzone Con me No raga Allora Solamente un voto per Warzone Ragazzi Vi dico tutti i giochi Che possiamo utilizzare Bene Case animatronics Che è un horror Final Fantasy 4 Che è un horror GTA 5 Eloneavor Minecraft Emily wants to play Slenderina Valorant Venerdì 13 Andate a Sfaldis 3 Slenderman Fornet E Warzone Sì Ma tre Tre finiamo subito C'è manco le quattro Oh Solamente Warzone No Warzone No raga Oh Solamente te stai votando No Tutti devono votare Raga votate Raga votate Ragazzi Dovete votare Porco Bisellino Mi fate Arrancire GTA Ok Poi 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 Raga Slenderina Avete anche Non voto Non voto Slenderina Ok Daria Voglio fare Le chiamate Su discord No raga GTA Warzone Allora Due voti per GTA Ragazzi Sta vincendo GTA Sta vincendo GTA Abbiamo pure Rocket League Ragazzi Abbiamo pure Rocket League Sto sbagliato Ciao Però puoi vedere Il mio ultimo video Bomber Certo bro Basta che ti iscrivi E attiva la campanella Lascia pure un bel like Messaggio eliminato Dal team Dei moderatori Di google Sì Perché i moderatori Di google Hanno eliminato Questo messaggio Ma vedi Non abbiamo mai messo Nessun mod Moderatori Di google No raga Già fatto Ok Rocket Gesù Cristo Gli ha detto Gesù Cristo Ok Gesù Cristo Quale Rocket League Qualcun altro? No No Che Rocket Warzone Stanno a scrivere Loro Uno Stanno a scrivere No Rocket No Ok Guarda L'ultimo suo video E poi andiamo a giocare No Rocket No Vuoi non GTA Andiamo Andiamo a fare le gare Ragazzi Come si fanno le gare Quelle la fighe Che io vedo tante volte Ne Io voglio fare quelle Che c'è Ehi Ehi Fatti Ehi Guarda lì Ti ho Noi, 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 noi. E' un po' di qui. Bravo. Wow, I don't dare shit. Elb is shit. Bravo. Forse è blu, guarda. Forse sono i messi che hanno troppi freddi perché non ti riesci bene. Bravo. E' un sacco. Bravo. Bravo. Bravo, bravo, bello. Mi è piaciuto, mi è piaciuto, bello. GG, GG. GG, bro. Bellissimo video. Dai, bro, GG. Mi è piaciuto un sacco. Allora, allora. Facci vedere, non si vede. Ah, fuck, cazzo. Tutte le volte succede così, ragazzi. Senti, non mi devi... Lo faccio vedere. Ecco qua. Ehm. Mi è piaciuto. Traffè. Un sacco. È in giustà. Un sacco. Bravo. Non ti capisci molto bene Ma ho gelato Però mi è venuto molto figo Mi voglio leggere perché l'ho già capito Quello che ho sentito E' sicuro L'ho ancora mochito ragazzi E' bravo Che ha già commentato Bene GTA No Wharton please GTA 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 Ok raga avete votato tanti GTA Quindi facciamo GTA Warzone regalo Ho fatto tanta fine Oh no 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 Wey Fa ressi Fa ressi Scordato Allora raga Giochiamo a GTA Però mi devo dire Come si fanno con le gare fighe Vuole fare dark a Nessuno vuole GTA Sì Togli la mia ciabatta Tutti hanno detto GTA Oh dammeli No Ma come li fanno a sarcoma Quelle ciabatte tutte intere Però sempre odiate E sempre li vedrò Cioè Regà Sono troppo preso bene Hai sei mezzo no No Dico tra un po' finito No Scherzo Parti scherzi Fatta cattiveria Ma vai a fa culo Sì GTA 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 Devi fare più Devi mettere le gare Adesso mi insegnate Allora ci sta Dai GTA Ok Tutti i GTA ragazzi Allora facciamo le gare Io vi dico ragazzi Sono un professionista della guida Ho rimbattato la macchinetta Ragazzi Però non ve lo dico Perché l'ho ribattata Stavo in pratica Sulla due strada Andavo un po' più veloce Era modificata Giro ragazzi Si ribalta Fatto normalmente due giri Però sto bene ragazzi Puoi vedermi sono qua Ha preso il muro E Allora adesso Devo cliccare qua No Ma che meglio Minecraft No 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 Tutti se no Vado da GTA Cioè GTA Vado GTA Ma è meglio Minecraft Ah ok Allora Che facciamo adesso qua Devo andare su GTA Online Giusto Giusto ragazzi Sì o no Ecco Ken Che stanno disce Si sente tutta casa Si può mettere Un'inzita In GTA Ok GTA Online Ok Sì No GTA Online Boh Eh regà Voglio fare cariche Quelle super fighe Quelle sanissime In cui ci stanno in giro Dalla morte Dalla roba là Solo quelle fa Riferiamo Senti Non botte soldi Non fa niente Giochi Non ti puoi Ho copiato dal migliore Te lo insegno io Grazie 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 No Te me lo insegno Ho fatto all'università Di Kevin Nero De sinistra Vai Più là Quando stai Di Lui deve Sta al primo piano Guarda Pino piano Guarda GTA Online Nikasaki All'ho scoperto Regà Domani niente live Domani D'arrivo al live Che ne ho fatto Dopo In cazzo E qual'è che Non è il giorno Boh Se oggi è giudì No è venerdì Domani potrebbe essere sabato Eh Guarda oggi è venerdì Oggi è venerdì Domani è sabato Eh potrebbe Perché Secondo me Secondo me Hai dormito troppo E hai fatto tipo Due giorni Venerdì 13 Cosa Dovevo dire No Dovevo dire Scusa Perché stai ridendo Non sto ridendo Stai ridendo Non so C'è così tanti paffi Non capisco se ridi o meno Guarda Fatela 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 Se siete troppo Ah Sono bello così Sono pulito Sono clean Sono solamente un brufolo vive C'è tutto clean No sabato Eriamo sicuri Che dopo venerdì Non viene domenica Eriamo così sicuri Cambio il titolo Regà Comunque ci sarà una live Di 8 giorni L'ho detto Ok Sicuramente Quali nei 7 dormirà E se sei 8 Volevo dire Però vabbè Dario non può dormire Perché Faresci Sì Ma che sì Ma sto più appuggito Regà No 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 Di 3 giorni 3-4 giorni No Regà Quanto no Regà Se voi volete Un live di 3 giorni La facciamo O di 4 Meglio 3 però Ah giù Mille Red Wolf E' il primo giorno Metti muto va Ti ho tutti armato Ma è attaccato a sta sbobba Tu È attaccato a sta cosa È attaccato Nausatico Sì Sì Ho anche se Paracolaginoso Eccolo Guarda la mattina Dietro c'è la console No Qua c'è la schede Curva Che sorriò Eh Elena Ti guarda La console No Il frigo Red Bull Hanno spostato L'hanno spostato Il frigo originale Red Bull Non so dove l'hanno compato Alla Red Bull Sicuramente C'hanno solo Red Bull Grazie alla Ceppa Ma come hanno fatto A comprarlo Fra Come si fa Pure io lo voglio Mi è andato il sito Della Red Bull L'ufficiale Quanto posso Me lo cerchi Stato che lo è in carica Sì ragazzi Sì ragazzi Allora Non ci sono problemi Non andare tu privata È tuo consiglio Che infame Che senso Disi iscritto Togliamo allora Oh Togliamo allora Per lui solamente Fammi Sto io Sta qua sotto Grazie Un tutor C'ha bisogno Di cina Tutor Perché ti metti Sì bracciali Te li riegano Un anello 220 euro Serio? Aha Tra Non è vero Eccolo Su ebay Usato No Non così Non lo voglio Non mi piace Mi sto facendo Con i miei vidi I freezer Non li voglio Su ebay Voglio il sito originale Lo sai Non lo prendono Eh questo qua è usato no? Io non lo sai In quello prendono Appunto prendi quello usato No Perché no? Voglio quello Ma io l'ho già cercato Che non te lo danno Non te lo danno Non te lo danno Non è inutile Che lo schifo Ambo Non ci sono Sì Ecco Allora Vedi dimmi Dammi il sito originale Qua sono morto L'altra volta Dobbiamo fare le gare Vediamo se riesco a camminare In tutto il video Fermo Ma perché sei stupido 180 Non ci credo Ecco qua Guarda Non so ebay Non so ebay Ma che vuol dire ebay Che cacchio cambia ebay Perché sono ebay Perché non si trova Kevin È impossibile Ebay trovi tutte le cose E invece La gente ci compra Cibo militare americano Quello là che dovremmo Che io volevo fare il video Capito Vedi C'ha pure il led Sì Non è rovinato Redbull Sul vetro Dietro ci ha attaccato Lui Fanno un po' Pocaga Eh infatti Io gli togliono Questo è dietro Pocaga però Eh lo sa Però è Redbull Voglio capire loro Come ce l'hanno Ma se lo prendiamo Uno è normale C'è attacchiamo Mega adesivo Redbull Che vendono gli adesivi Eh Loro sono adesso Stati E' uguale Hanno chiesto la sponsor Adivamente Sono sponsorizzati Dalla Redbull Ovvio Però là Perché non ci sta sotto Cosa Scritto Io sai che sono Dio dell'online Eh Ti basta Admi un giro Sempre Eh no Ma io ti fanno lì Faresci Però sto Fa il giro Dai non so quanto Eh ok Dobbiamo fare le gare Dai Ah ma stava qui L'uscita Ma poteva Dall'inizio Dobbiamo fare le gare Come si fanno le gare Rega Fede ma non ti da fuori le armi Dopo esce la polizia Solo cecchini se non posso Come un avvo Ma ti investi il camion Bella Così Dai Gli rimbocchi la Dai spara No Ti Bravo A polizia Rega Come si fanno le gare Allora Dimmi Allora Piggia opzioni Ok aspetta Piggia Da con te Che non sentivo Piggia Bravo C'hai Innovato il dizionario Sì Non ci credo Sì Non ci credo Paresci Paresci Sai la live bella è il 10 Sì Fanno l'inaugurazione Mi guardo Stanno mostrando tutto Che funzionano i pc Le camere Un'inaugurazione Infatti In generale Lascio Soluto E quando C'è L'inaugurazione 10 Ora Piggia Aspetta Pro Membro Della Lucia E' Non Fanno bene A fare L'inaugurazione E' Comunque Ho avuto un sacco Di usi Albonali Sì Anche Insomma Live test Live test Mille Albonali Penso L'inaugurazione A minimi Mi piace Di più Sai che va Veloce Sei negato Ah io son negato Guarda che parquet Tiè Cosa hai fatti Che culo Allora Io ne ho parlato Molto Con il mio amico Nico Opzioni Ok Sono opzioni Eh Con quello là Che ti ha chiesto Che si va a mettere Stream Che è rimasto Un po' Che stream No Nico Oltre no Ok Sono opzioni Bro Eh Uno Si sarà Non credo Non so Cazzo Di Ragazzi Ragazzi Nessuno Si caga Allora Online Poi Attività Ti immagino Ora gli spediamo I soldi Dove sta Ma sei stupido Già ci stai Ah ok Attività Coin Abbiattività Partire Veloce Sicuro Cazzo Dura Ok Avvia Una gara E' vero Modifici Ah ecco qua E poi Avvia Una gara Ok Vediamo se è figo Veramente Se so Quelle fighe Figo Non so Quelle gare Di me Ha detto Cara Nessuna Gara Trovata Cerco Un'attività Devi spingere Gara Avvia Una gara La rifai Trovata Non toccarlo Ho trovato il pop Non lo so L'ho già messo io Nel carrello Non ci vuole tanto Vuol dire che nessuno Fa le gare Non è vero Eccolo 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 Come si fa A fare anch'io Come ti asciamo Cioè Che lo fa Riusciamo ad andare Dall'aspettatore Asco Dall'aspettare Che finisce Dall'aspettare Che finisce Non so Guida io Dai si No Fermo Ah si aspetta Ok Fermo Fermo Non so Sto Ma cambia Almeno Visuale No Dice Cioè Si ha scritto Visuale Causa Visuale Filtro Classifica Audio Ciao Questo Magari Asca Questo Qua lo sento Bravo Che Ma E' Favere Arcello Che comanda Bella ci sono da stamattina mi mettete modellatore no ragazzi capirai gente prima di diventare modellatore ci mette un altro ragazzi è normale è una questione di fiducia regà non posso mettere in modo così ti va bene sì regà va bene perché tu fai per giocare attenzione gli sta dietro lo sta per superare lo butta giù lo spinge fuori dalla cara attenzione attenzione ma perde perde quota lui sta quotando come un cane come un panda ragazzi attenzione va avanti corre prende il checkpoint intanto il suo amico rimane un sacco dietro è già certo che perderà però non si arrende ragazzi non si vuole arrendere di stare calcagni ragazzi si sta avvicinando non è timoroso continua va avanti capite niente dipende il checkpoint passa in mezzo prende il turbo signori e signori attenzione attenzione il l'amico è dietro prende il turbo ma rimasta sempre dietro ragazzi cerca di stagliere calcagni ma è sempre un hub attenzione mister panda ragazzi sta dimostrando di avere un vero coraggio attenzione si sta avvicinando il suo nemico il suo piacerimo nemico ragazzi si sta avvicinando guardate regà sta sempre più vicino taglia verso l'interno ragazzi taglia verso l'interno il signor bush ecco qua gli stare calcagni a panda ragazzi signor bush panda si allarga bush lo potete andare dietro lo tappone ragazzi panda prende il turbo bush prende il turbo gli vuole fare la manovra della pulizia attenzione ragazzi attenzione e fine gara vai 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 andiamo avanti ok quando è che si inizia no grazie chiudi ok vai vai voglio fare questo che dite voi non mi dite che sono da solo che sono diventato triste che sono da solo no non mi dite che sono da solo come si fa invita la gente tipo di gara standard senza collisione standard numero di giri 8 classi sportive ora per mattina traffico ok arriviamo qualcuno di entra però inizia aperta da sola il via automaticamente vai Domoi dando gente ragazzi Sì, non c'è se ne radio fa schifo. Quanto ci mette in vita o? Che palle, regalo! 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 e il caldo lo fa tra il tiro e due negli altri smetti di poggiare la mano qua sopra? grazie e lo metti dritto? grazie se ti lavi pure non hai il favore va regalo lo sfondo lo sfondo Kevin pronti? 3 2 1 aspetta sempre mi fai la stessa cosa perchè non se ne avrà la carta? ti spieghi superato attenzione ha superato eh buffone perchè non se ne avrà l'altra corsia? eh? perchè non se ne avrà l'altra corsia? non ci ho pensato plug a fedizio voglio fare il giro voglio fare il giro voglio fare il giro voglio fare il giro tiè ho fatto pure il giro quanto so forte eh dillo dillo che so forte si non è il centro di rallenta non è la sua vista ok attenzione 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 giù 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 vai tu sono forte regà ma anche tu è forte si sa che non mi conveniva mannaggia lo sapevo lo sapevo ragazzi mannaggia mannaggia a me regà no 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 vai vai taglio stretto taglio stretto lo taglio stretto taglio stretto ma se lo si deve tenere da sporta ma infatti eh regà fa schifo Dario stai zitto stai zitto è colpa tu questa è la cazzone giù giù sta adesso vai 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 Vai, vai, vai Non sta da nessuna parte Mi rimbalza, mi rimbalza Oh no, ho perso No, ho perso No Ok, cammino sul muro No Ragazzi, era tutto calcolato Mi metto dritto, visto Hai perso Oh, regà, fatemi grattà Mamma mia Non ho perso Non vuoi fare Che cosa vuoi? Dai, dai, dai Non ho perso Non ho perso, non ho perso Ce la posso ancora fare E' fidati di me Senti, allora E' complicato Questo qua è un'autopopo di me Vai, quello ho perso il turbo Ok, ok, ok Oh, vabbè, regà Sta dietro di me, ragazzi L'ho detto, sono più forte Forse sta al terzo giro Vai, uso il turbo Mi appoggio al muro Perché così prendo il turbo Eh Vabbè, ho baggato tutto Ho baggato tutto Fate lì, fate lì Tiè Sta dietro di me, ragazzi Sei stato doppiato Chiudi 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 No, vabbè Che fake Direzione sbagliata Sì, guarda, guarda Mo che vado bene Dici direzione sbagliata Non va Sappiamo che Dario Non è portato per le gare Ma sono fortissimo Vai, se giro di qua Li taglio Adesso non c'è una gagnetta Direzione sbagliata Cosa hai fatto? Sei andato all'ultimo checkpoint No Che vedi? Vedi quello che è forse Proprio cattivo L'avresti dovuto rifare Questo è un turbo speciale Che speciale Non è da tutti Avere questo turbo Eh? È stata colpa Di la macchina Dico Sì, ragazzi È la macchina Io dico Ma io dico Chi è che manda La macchina Ma tu quindi hai finito Quel gioco? Sì Cioè hai finito Il livello di quel gioco Quale? Quello che abbiamo comprato No Ho fatto un'altra cibo E metto come se è sempre in vendita Che è? Non dobbiamo fare gli affari Sì Mi ha sempre detto Mi sono iscritta Grazie Grazie mille bro Mettati la GTA Oh Come sgombazzi Guarda 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 Se ci riesco A fare quello che è Perché Taglio prima Porto c'è Schifo Ho preso il muro Ho preso il muro Pranelli Dove è andato No 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 raga Ma schifo Dario Dai stai cito Aspetta Aspetta Guarda Guarda qua Guarda Perché Dario fa così Schifo Raga ora Aggiungiamo Aggiungiamo Spagare Stagare fa poco schifo Maggizia fa schifo Sì Infatti Che depois No no Ci state carne 100 Repreta Quell'idean I can be I Can fly Nanana Nature Ah Se non esplodo Voglio un pein error Ah sì Usa cheat Direzione sbagliata No Ma che mi sta a dissi Sta facendo una gara Si tolghi Dove sta a claxon? Urgente Deve tornare Dove sta Dove? Ecco Fatemi suonare Claxon Si tolghi No Faccio ritardo Stai facendo Tutti i contro È la mia prima gara Non posso fare ritardo Signora Giochiamo insieme No basta Dario Basta Dario Basta Basta E ogni tanto Attività Partita veloce Vai Guarda Igra Igra Sela Like Ok Ajne Emo Igra Sela Problema è il problema perché ora come avremo cosa? ciao mi sono scritto, grazie mille grazie no raga io rosico adesso ne faccio una come io perché è cresciata la live inizia? eh son 4 eh? partita veloce no 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 io vorrei mettere una videocamera là sopra in modo che ci rimane il divano quando giochiamo è scomodissimo passare con più appunto e questo vuole mettere anche la mia videocamera la sopra è un po' con i miei panini qui? si in mezzo ad una videocamera ho scelto che sono a prima parte di qua non c'è di là il test che stai dall'arte da questo parlamento perché devo capire bene ora ok non abbiamo cucinato in questa live è quello il problema non abbiamo fatto il test lo facciamo quando concludiamo? il test no però funziona funziona per forza ma tu vedi a tu vedi a fine live tutti quelli che ci sono anche se non sono anche se non hanno scritto ragazzi scrivetevi tutti attivate la campanella se volete che andiamo via andiamo via vediamo iniziamo che fanno? sono fanno caro sono fanno caro qui questo è il tempio le persone che si sono fanno caro a volte sei freddo quando sei meramente saluto a volte sei freddo sono davvero iniziale mi piace solo ci sono più finhos al mare ma non ti devi ne vedi Raga, non parto, raga, non parto, raga, non parto, dai raga, bella raga, schiacciaci tutti, attivo la camparella, nessun donatore in questa live, tirchi tirchi, no scherzo raga, voglio bene, ho solo un iscritto, per favore, Raga, non parto, ti togli il tuo titolo, e che gioco del Facebook? Allora, che giochiamo? Non c'è nessuno, no? Fra, guarda come l'hanno cambiato, ma non cazzo, un botto, l'hanno fatto molto meglio, meno male, Maradona 24 ore, stiamo alla fine, vuoi fare venerdì 13? Eh? O Minecraft? Scrivo stiamo per concludere, tra poco finiamo, no, cosa posso dire? Manca poco alla fine, no, spero, 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 spero 1000 euro, vai raga, si raga, mi facciamo i 13, finisco sta gara, vai 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 vai, quei qua li sfondo tutti, sono il migliore, qua non mi ferma nessuno ragazzi, Non mi ferma nessuno, 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 non mi ferma Tiè 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 Mando vai Mando vai Mando vai Mando vai Tiè guarda Ti taglio stretto No regà Mi si chiude tutto Che cazzo sta succedendo No Veneto i 13 Stai freddo Stai buono Mannaggia il palo Scomi 700 euro Parco due Mannaggia È colpa di venire i 13 Ragazzi Porco due Mancava poco regà Vai 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 Mannaggia il venire i 13 Vai forse posso pure recuperare Posso pure recuperare Posso recuperare Posso recuperare Vai 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 Non ci sono problemi Guarda qua 17 27 come Come spingi Tiè Tiè Questa è 17 27 Sì Questa è 17 27 Non ci sono problemi Non ci sono problemi Non ci sono problemi Non so Bavano Aiuto C'è Va Ok Vettete i seri Eh, Warzone, non lo vogliamo, non ci va Dopo Non possiamo fare solamente un gioco Ciao Darius, bella Hightflex Vabbè, facciamo martire la rapida a questo Venerdì 13, ragazzi Ora incontrare gli italiani Si può mettere in qua Cioè Tendi 13 Come musica pass Ok Bella raga, perché spami Troppo andato al male che sta Diluviando Madonna, bravo, fanno ancora Non so noi che quanti ne fanno Da me va Ciao ragazzi Il sole è arancione per quanto Faccardo Ciao ragazzi, bella Qualcuno mi conosce? Io sono un youtuber famoso di Perché sono uscito in tre quando ho detto il bello Fanno 31 gradi Madonna Non si muore Non si muore C'era tutto Tutto scoperto È giallo Perché sono tutti russi Non uscite ragazzi Voglio bene Non è che fa lo tanto Se stai ti credono tutti Perché la tua voce è bella Sì Quanto misurella Chi è che l'ha detto? Qualcuno mi ti prende in ciro Angelo dalla vedove Questo qua è italiano Bella bro Angelo della vedove È italiano? Bro, schi Si vola Detention Island Detention Island Niente ragazzi Non mi caga Sono 50.000 Il picco Sono arrivati a 17.000 Bro Appena sbarcati su Twitch Se me contro te vengono su Twitch Siamo morti Mamma mia Hanno già conquistato YouTube Poi tu dirci No, te prego Oh Qualcuno Vabbè scusa Vedi è vero Fata l'Heador Eh Me capirai pure a me Crash Eh Perché? È la stessa cosa Me capirai a me Non ho potuto giocare Vabbè Ma sai che non c'è spazio Dici Madonna Cosa? Il vostro nome in italiano è Gioia e Cavaliere Ma che partì? Ma chi sei Joy Rider Lo sai che non c'entra niente Però Non so che giocare Cioè Ma dove le trovate ste cose? Cosa? Elimita un paio dei giochi E lo neighbor Eliminalo Ti prego Non ho senso Sì Siamo noi che non riusciamo mai a finire un gioco È vero Ci dobbiamo impuntare Joy Joy Rider Cavaliere Però non è vero Non vuol dire questo È tipo un pazzo scadenato alla guida Quello Tipo Fast and Furious La stessa cosa Gioca a FNAF FNAF Eccolo Questo lo voglio finire Io sono arrivato un pezzo più amati Vai Sono gentile Te la lascio Cioè Cioè La lasci La lavati i denti Grazie È un po' Pochissima però Eh sì perché è già Va buro quando mi arrivi là Un pochetto Mazza Mi sento se mi sono Lasci veramente Insomma Dopo mi hai detto sta cosa Mazza La batteria di tablet è emita Mi ricordi che c'era un charger La lavati i denti Guarda è schizzato tutto Non schizzare Valla a buttare L'ultimo che l'ha bevuta Sì Allora vi è piaciuto c'è esamine Grazie Io l'ho finito 14 volte Per questo vi voglio dare dei consigli Su Colin ds No Dobbiamo finire Crasci tua Cadroia Stai disegnando un attimo le cose Mamma mia Non va bene così No Non va bene Ciao Parco 2 Chi è Mi è urlato troppo La batteria di tablet è emita Mi ricordo che c'era un charger Nella sala di ben Ha spoccato l'intercamere tutta 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 la casa Eccolo Eccolo Che ci vuoi a passare da quel buco? La secchissima Anzi sta sopra di Sta in event Deve Mi uscire nel tetto In event Di condotti di aspirazione Bruttissima Madonna C'è sta l'ansia che non avete idea Perché? Rigascia a lui? Mi va a fanculo Regà No regà No 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 Ma non mi è urlista 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 Non mi è urlante cose Ma in quest'arco Di cose Che mi è urlato Che hanno aggiunto? I caratteri Ah non mi è urlato Ragazzi scriviti Che sta trattando La batteria è emita Mi ricordo che c'era un charger Nella sala di ben L'interno U Regà Manca poco la fine Venite tutti Regà Aspettiamo tutti in live Bella Proviamo a finire un gioco Non ce la faremo mai Un gioco Non abbiamo Incredibile Lo finiremo questo qua Fidati Ti do la mia parola E non è così serio Ti do la mia parola Non finiremo Angoletto ragazzi, l'angoletto ci salverà Sì, lo sento un botto, sì Mi sa che non ce lo fanno What? Una lettera? Hai arrivato al giorno 24 e ho detto oggi no Io lo devo fare per tutti i cifri O voglio giocarci, voglio cercare di giocare di più che la giornalina Eccomi, lo compro, lo devo fare per americani Dove sta il caricatore? Dove sta? Dove cercare il caricatore? Come fai sta stanza, regà? Quelli sta stanza stanza, ragazzi Nascondi l'armadietto, non c'è senso Della Dyson? Eh? Quelle norme della Dyson No, ma chi? Quello che tu sai è buono La della pura Stanza stanza, no, c'è di due di The Red Bull, The Cipo, di tutto C'è fammi tutto qua dentro Eh, è vero, e loro giocano a Fortnite tutti insieme Eh, ancora la cosa bella Dici, fisso, tutti insieme, giocano a Fortnite Anche esistono delle zippe Perchè lo giocano Perchè lo giocano? Perchè si gioca? Allora, se non giocano con pro player Tipo Pro Atomist Eh Pro Atomist è una pro player? Eh, eh È una ragazza pro player Yes Che figata Stava nel team con Oh, chissà perché è roscia No, devo trovare la mia stanza, sì Nasco in l'armadietto del bagno No, non c'è stanza Ho capito dove andare Nella mia stanza Se la trovo Vai più là La mia stanza dove è partito tutto Vai più là Vai più là Li attacca Armut Eh sì, esatto Che vogliamo In senso dove è partito tutto Ah Allora qua Non abbiamo mai capito No? Mi sono mezzo abituato a queste buffe È sparito questo A te? A me non mi danno fastidio Io provo io lo scar C'è ancora? Eh, c'è È sparito Ah, fratti Oh, ci dobbiamo passare i video Prima che te ne vai Ci dobbiamo ricordare Mostro Angoletto Non credo che era un angoletto Ma guarda Tu devi proteggerci Ah, perché non guardi? Puttana Scherzavo Allora, guarda Devo avere il tempo Perché mi si scarica il tablet E te la sei super veloce Che vuoi? Ecco, vedi Devo andare qua Non solo un altro C'è il 7% È questa? Qual è? Mannaggia lui Dario, c'è riflessi di Chris ormai Dove essere super veloce Ho capito Dove andare a quelle stanze Le stanze illuminate Sono stanzi Per lontanze Qua Mi ricordi C'era un charger In Benzlu Dario, c'è riflessi di George Non mi vedo Non mi vedo Sì, qua Sì, qua Sì, qua Sì, qua Mannaggia, sei quasi Dai Se stanno andando incinta Non le mettere Eh? C'è scritto Non è appropriato Per le persone Che hanno attacchi Ma bella C'era un charger In Benzlu Non è questa Anzi è un ufficio Sì Io no Al contrario Eh Del culo Non si vede niente Bra Lo sai che non ti puoi vedere Nella videocamera Vero? L'abbiamo capito prima Un'altra volta Non ci puoi vedere Ma chi è? Fermo stato Un riparto L'ospedale Ma chi è Sobip? Non ci puoi vedere Stanno caricando Zero No Sì È una possibilità T encicca mega attenzione con gli occhi non glielo dire a me si spaventano e non ci dicono più di fare gli horror ma le provate si deve arrivare subito in quella stanza non so qual è raga scusate non posso leggere la chat perché il telefono è stata una cosa quindi dobbiamo arrivare nella stanza non sappiamo che stanza è ma io non ci vedo è quello il mio problema è troppo buio raga io non ci vedo un gioco di troppo buio apri sta po' l'unica porta che non si apre a beccata io faria leggere anche i messaggi va faria leggere che scusate allora 5 friday dei 13 noo warzone qui sono tutti vecchi messaggi dai dall'inizio della gara non faremo non si mi ferma nessuno dalla fine gara no sono ultimo raga 60 like condividiamo questa live condividiamola condividiamola siamo quasi alla fine dai 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 ah ah si devono caricare un botto di messaggi allora raga manca pochissimo mancano due ore un botto manca un botto raga arriviamo a 70 mi piace e iscriviamoci tutti dai 70 mi piace è una bella iscrizione che ci vuole? easy easy solamente 70 mi piace è una bella iscrizione nascogli l'armi a mettere il bagno per me vuoi fare una collaborazione con me ossia fra ho 45.000 iscritti vuoi fare una collaborazione con me fra potresti essere un account molto fake cioè hai capito? prova tezzi non ci vedo altri sub ah ah madonna lasci tua ah ah ma chi è questo? per me è un account fake vediamo raga non lo so mi sa tanto di account fake perché dovrebbe fare una collaborazione con me ci sta ancora fra? raga sono voi sono voi account fake o no ditemi che dite account fake dai raga iscriviamoci tutti e attiamo la campanella eh dai 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 andiamo a 800 views a 700 views dai le dici il mio montage no ora no super fake infatti sì anche secondo me raga è fake se non è fake diciamo di commentare sotto al suo ultimo video se lui dice che non è fake questo dice vuole fare una collaborazione con noi ah attenti sono colo nero lo scoleggio santi fiori che è quello che ti butta di merda se vuoi usare dai bra non sul computer capito buono fra non buono sto profumo però basta ma basta ma basta bra sono allergico a sta merda questo vuole fare una collaborazione con noi però mi sa molto di fake mhm non avrà mai arancia no no sì certo è lui è lui è sicuro? l'ho copiato e incollato ma sicuramente è fake e l'hanno fatto uno fake allora frate ssd scrivi in la community ciao un po' scommendi al fly ciao lo vediamo ah io io conosco io lo conosco io fra ne mi su scrivi sempre però scrivi sempre bro ssd scrivi ciao nella community perché scusa non è che non voglio crederti è normale c'è 46.000 ma è inglese pure vediamo le informazioni twitter è inglese è impossibile can't fake 100% a voglia chi vuoi diva allora sei riuscito a scoprire i nuovi indizi? si ci sei arrivato? sono cagato tutto tre volte ho detto vabbè leggiamo un attimo i messaggi però ne hai messo troppo alexa che ore sono? scusate sono le 3.36 del video no li rievi arrivato a buon come un'inizio alexa volume 7 alexa ma dove l'hai trovato? corri Dario corri entro alla porta vai nel muro prendi alexa capace oh nel frattempo che mi guardo inizio quando ti va alla porta sviluppo avuto vabbè ecco è vero Poi con l'aria si è espanso Sì, è buonissimo Ma dove l'hai provato? E' stato dentro il bagno, c'è il cagato, quello ho pulito un po' di merda Avrai i trailer, i trailer, è f***ato Sto sta perdendo Ho già visto ieri sera Maronna, è tutto bagnato La batteria di tablet è inutile Mi ricordo che c'era un charger in bin's room Sì, non sai che lo sei a dire Salta, davvero Bella poi questa, cavallo Vale Non ci credo Ma perché hanno incluso il piccone? Ma perché hanno incluso il piccone? Fa' un culo Basta, 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 esageri Violenze atti di bullismo Raga, segnalate Quanti scherzi ragazzi Ora faccio vedere come si c'è Non è vero, che è in puzza Senti il odore La batteria di tablet è conicola Mi ricordo che c'era un charger in bin's room No, no No, no Tu c'è la pace Dobbiamo morire in italiano Non è vero No, no Quale c'azzo notte qui dentro Non è vero che c'è un sacco Ti dovevo stardire con quella bocca in testa Mannaggia, l'hai fatta troppo piano No grazie Che pizza Perché sgiravi se Guarda Che senti Ho trovato la chiave no Divi un attimo premere e continua Che non sto scherzando La chiave del tesoro Vieni qua Ma non ce ne sono problemi Allora Insiamo pronti Questo gioco ragazzi è semplicissimo Allora vi faccio vedere come si vince Allora continuiamo 0,1 secondi Questa volta si è sprecato No è stra complicato Manca un'ora e 50 Che si mangiamo la pasta con la panna Bella mani Bella mani 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 Eh? È quello real Io non so che è mani Quanti iscritti ha? La batteria di tabletta è semplice Ricordi che c'era un charger in Benzo La puzzetta La puzzetta Ti dico la puzzetta Corri Puzza Gabi Dai rega Dai E' calato Perchè sono tutti bloccati Ricordi che c'era Vediamo se ragazzi è rilassante Vediamo se ragazzi è rilassante Bella ragazzi questo qua è una ASMR Benvenuto Davide nel team Benvenuto in A-E-S-N Benvenuto Let's Go Adesso ragazzi continuerò a fare questo gioco Finché ok non mi caccherò il cazzo Peccato che non devo finire Perché sono un coglione Ecco perché Poi guarda la YouTube L'ho già vista la tua YouTube Molto bene La batteria di tablet è inutile Mi ricordo che c'era un charger in Benvenuto Tu non puoi mentire a sentire tu cazzo Addio ragazzi Vio 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 Che gioco è È un gioco bruttissimo ragazzi Si capisce un cazzo ragazzi Ma si che si capisce Ma che cazzo dite ragazzi Si capisce Mi ricordo che c'era un charger in Benvenuto Ma perché ragazzi È colpa del gioco Ma non è che non si sente un cazzo Adesso giochiamo ad un altro gioco Perché poi le passa la voce Perché è un R S N S M R Ragazzi Adesso ti ho capito come stai Non mi sento Ma non ci sento Una volta che fa capito all'aria Eh Si Patroni Eh Si stavo scherzando io Io no Allora Kevin io non riesco a finire Stavo questo livello È troppo complicato Cioè sta parte Io devo uscire a coprire Dove li devo andare Se riesco a capire dove devo andare L'ho finito Porca puzzettina Buzzetta in porta Mi ricordo che c'era un charger in Benvenuto Oh yes Che è questa cosa La molliccia eh E' la tua testa? Ti sei staccato la testa? Ah fredda Se ridicolo Se ridicolo Ma dove vai? No son coglione Son coglione Son coglione Son coglione Son coglione No che è Son coglione Da una parte ho capito una cosa Posso aprire i rubinetti dell'acqua Posso attirare il mostro Aprendo i rubinetti dell'acqua Così lo attiro di là Io me ne scappo di là E quindi vai là No Si Son meglio Così Guardando questo là Mentre fumo Blanana Nanana Nanana Guarda Seconde Velocivisi Può guardare La mia prima Iniziale Oh bro Ti sta giocando Dopo la guardo Ma non erano Ci scheriti Non erano Non erano Non erano No perché ha fatto Il gruppo su di noi E chi è? Aflex Quindi Io gli ho detto Che viene che non ce ne fai con cazzo Lo vuoi continuo E io devo dire Bro No stai scherzando Bro Adesso non possiamo La mente Dove stiamo facendo Il gioco horror Capirai La prima cosa ragazzi È Come potete vedere La vittima orla sempre È un maleducato Impersistente Ma noi continuiamo ragazzi Inviamo i morici Dei youtube Chi inviamo La batteria è emita Mi ricordo che c'era un charger In Benz Vai dritto 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 È 17.27 Questa è 17.27 Non ci sono i problemi Io Qua sei arrivato La città è stata scelta La piccola From la evidenza Storige Can solve The problem Hmm I think I'm starting To understand Where these Giant toys Came from c'erano evidenze da uno dei casi, questo lo spiegherà molto eserciti sempre? Senti no, questo gioco fa schifo, adesso domenici bella, mi racconti e scrivi che attiva la campanella broski Ma che quanti gradi fanno alle sette? Dimmi dieci Perché questo gioco fa schifo? Troppo complicato Che palle, non cambia niente, non so gradi Alle sette Io svengo Non posso però Vabbè mi alleno in camera Ti devi alleno? Faccio in camera Ah lui viene in camera? O fuori in camera Ti fa troppo caldo in camera Mal di pancia La cosa più dire Anche il pc fisso Se però il pc fisso lo metteressi qui o là? Ah boh Chi è adesso? E tu per sicurezza li muovi Ma scherzo Dov'è il tuo braccialetto oro fra? Al polso C'ho l'ai sto al polso E che giochiamo? Warzone A Dario non gli piace Warzone Ma Ma Giochiamo Non so se ti devo aggiornare Ti metterà la seconda schermata con i computer che ti chiamano in discord La seconda faccia come loro Perché non c'abbiamo in saloneva? Vai 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 Giochiamo Non è che vuoi aggiornare? Giochiamo Di quanto? Non mi dico 80 giga che mi sparo Io Ma Warzone è gratis Quello la è Cosa? Come si dice? Bella a tutti ragazzi E' tutto Warzone? E' quello? Si ma Ma di un cacchio vuoi scaricare dallo store? Dov'è? Nel PlayStation Store Store Dov'è scaricato Fornet? Ha scaricato però su 80 giga Che non gioco col tuo gioco a Kroonker Tide? A Kroonker insieme? Che ne so facciamo qualcosa di tutto Giusterebbe E noi non c'è un microfono Mantis Il Mantis Il nostro Vai Non è fermato su Twitch E l'altro su YouTube No Tipo Le live 48 ore 24 ore Così possiamo farci dire che uno ferma e uno ferma e l'altro guarda capito? E l'altro dorme Eh Eh Bene Mimmi ci sta Io non ci avevo pensato prima Anche te sei stupido Facciamo i testi test No? Si Però ti non avrei toccato uno del disco Cosa? Ecco un gioco C'è? Ah Fortnite Non mi sa che tu lo devi trovare Guarda Quanto è un atteggio? Guarda Un giga Un giga solo? Un giga solo Ah giocami insieme a Fortnite Va bene? Mh Regà Ci fanno dopo Warzone E come fai a mettere che loro guardano la mia schermata invece della tua? Quella non si può fare Eh? Quella non si può fare Loro le mando Eh perché non mi ti faccio Eh Te vorresti far partire una stream su Perché loro Twitch è un'altra cosa Perché? Comunque il programma è lo stesso E secondo loro fanno una domanda discord Condividono lo schermo con la facecam Comunque Che programma? Ah no è vero loro usano un programma totalmente diverso Non ho spiegato Eh Ho più un altro programma Perché hanno tutti Te non hai un pc? È una ps Kevin Sì Si regà Vai apro forniti Vai vai Io intanto ho molto pc a Kevin ragazzi Sicuramente vieni qua Molto il mio pc Sì Ma guarda hai visto? Se c'era la guarda che era dopo Che frà Tant'è che la vuoi tieni? Dura Beh Guarda Guarda Vado a casa Guarda 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 Allora lo svitamolo Ok raga Mu accenno Posso giocare con voi No raga un attimo Dobbiamo far prima di test Non c'è ragionamento Alla mi sa che l'ho fatto io stanotte Senza volerlo Eh si però ce l'avevo Non potrò giocare Mi vedete al culo infatti Bella raga Ok mi invia la richiesta su fortnite Ok raga un attimo A parte questo è manco il mio account Cioè è meglio così E no che non è meglio così Ok righiamo su fortnite Righiamo Ma non è assistant ego 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 Brava 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 Mi piavano troppo alto Devo passare il rumore E mi piavano No non c'è bene Stai 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 Oh Gesù Di Avvio non riuscii Lo porti le gente Ok, d'affa, il Martis lo sta, aspetta, dove sta il Martis? Mi serve andare a cacciare dalla squadra, io ho detto, dimmi, dove sta? No, Ruggero. E io, che fioi, ma ne the vieni a vedere, come ne the vieni a vedere. Io non lo vieni a vedere, io non lo vieni a vedere. Ja. Non guardiamo i video Mutami Mi muti? Mutami Mi devi mutare No, l'ho usato veramente Ah, Hitflex si spammava troppo, non potevo fare altro Ma mi si è chiuso Fortnite in tutto ciò Sì, perché mi ha detto una cosa e si è chiuso Chi vuoi si... 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 Grazie E di esecuzione in corso Non è vero, non si è chiuso Si è bloccato tutto Ma la cosa mi raffassito che Fortnite si vede piccolo Ma per chi? A parte si è bloccato Guarda Mi hai cacciato da lei? No Ci sto, ci sto Devo chiedere il format di nuovo Eh, ma che ca... Regà, ora mettiamo lo schermo grande Due secondi Vi diamo tutti amici tuo fratello Ehi Scherzo Ragazzi oggetti Qui non c'è al passo Tra poco lo può prendere Tu hai... Salve il mondo Sì Ce l'hai comprato? No Sì No, no Come vediamo se non ho preso un terreno gratis Non è mai stato gratis Sì, in vera No, fra Ma è stato gratis Oh Godo Sì L'hanno giunto i tornei, regà No, quanto sono felice Allora Ogni giorno Coppia del set Non mi interessa Ogni giorno Campione cash Campione coppa cash Premio Madonna Solo il primo giorno si vince du... 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 L'ultimo Provi, sì Tutti i giorni du... Tutti i mercoledì No, c'è sì Vabbè, non è fai Ma poi non ci gioco mai E' fai No, ti comincio Che cazzo Ti puoi incidruirei per te Eh eh Proprio ci gioco per te, no? Io sto andando per fare Qua a 900 Ci torno da MK Piattaforma ogni giovedì No, non voglio quelli ogni mercoledì Ogni giovedì Tipo questi Eh, questo è importante Tanti ancora non ho scritto Infatti Semifinali Le finali Voglio vedere Sparami qualcosa di grosso Così mi piace Così mi piace Fortnite 16 No, va Comunque E' suddiviso in Sicuramente Tre persone Così che subito No, in singolo Ah Eh, ci sta Beh C'erano molte brevi Sì, perché Sì, perché Sono stati troppo ditti Per un bel po' di tempo Quindi finalmente Ci abbiamo fatta Oh, raga Finalmente Hanno tirato fuori Sti sordini Sti dirchi Allora Mettiamo schermo intero Ma è intero Ma infatti Non capisco È intero Però non è intero Nella live Questa cosa è molto E come si fa? Fin quando vuoi Basta la tenda Perché? La devo abbassare Ma ronna, raga Mi puzzano i piedi Mi vado a lavar No Ah, ma faccio Guarda qua Dove? Sì Oh Ma mi vedi? E tu mi vedi? Sì, aspetta Loro mi vedi? No, vabbè Però C'abbiamo fatto C'abbiamo fatto In grande In grande Cosa? No, però Siamo stupiti In grande C'abbiamo che sarebbe In grande In grande In grande Troppo tardi Ah, sì Ti devi abbassare la tenda Che si è invece su Beh, ecco Eh, ecco Eh, non metto Tanto illuminato Che ti dicono Oh, wow Wow, f***a Che cazzo Che cazzo Che cazzo Cazzo Che 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 cazzo Sì, cinque Quindi si cazzo Eh, cinque Si cazzo Aspetta Mo te lo dico Aspetta Un attimo Si vede un po' male Ancora di più Vai Così ti si vede Guarda Sì, non benissimo Questo è il mouse Così come ti vede Così come ti vede A me non serve Io Io Ok, ok Comunque non è male Ma loro vedono Schermare il gioco No, Kevin Come fanno? Si rimbambiscono Se vedono schermare il gioco Contemporaneamente Non è vero 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 Non possono essere solo me No, non posso Adesso loro vedono la mia Schermare il gioco Eh, ma non potranno E se Non potranno mai Non potranno mai Che è solo me Cioè? Che è vero Nei mille Non possono essere Che gioco Si, invece possiamo Come? Eh, però Adesso non me va Come si fa? Eh, si fa Si fa Non mi va Di spiegarti come Cioè Ci dovrei pensare Però si può Fa Eh? Aspetta Ma grazie Ma grazie Mette le webcam un po' più piccole Così loro ci vedono Perfetto Pronto? Prontissimo Che è successo? Che gli hai detto? Se non è educato Sì, ma non massimo Di massimo Sì, ma non massimo Sì Ah, riga Io Il mio Il mio Il mio Il mio Ok Si dovrebbe Vede bene Andate Mila Il che sta Adesso Perché ci manco Troppe Bro Lo eliminate Tutte Se volete Se volete Che Cacchio Devo fare Di presa Del pad Che Pagli Inizio G-Rider Ma chi sei Ma chi ti si fila E' inutile che parliamo così Voglio sentire come sentono loro Aspetta Voglio sentire come sentono loro Aspetta Voglio sentire come sentono loro Aspetta Parma Parma No Parla No Parla Avvicinati il microfono Adesso Parla Per la tuteria Parla Per la tuteria Perfetto Ok Si sente Si sente Più o meno Secondo me Devi mutarti È inutile Intanto si sente Da qua Il microfono Adizia Guarda Lo metto così Qua si sente Sia me sia Della Guarda Oh Bella 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 voce Wow 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 Ci sono stati Il microfono Questo qua è uno Qua c'è l'altro C'è un salanto Allora Aspetta Che io Da Quanto Buono Spesso Guarda Che ho messo La sensibilità Dei Io Ma su Pochette No Muon Di Buono Guarda Ma dove Metto Dove Mettere Comando L'aria Può potrebbe Sì Buona Ma hanno Meno Un voto Eh L'ho Cambiato Io Se Non posso Sboggiare Le carte Perché Non ci salvi Ma Stico Beh Quanto Poco Apposto Dai Dai Vai 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 Credivano Vai No Che Cattiva Coppia Vai Quanti Ti ho chiesto Di Se Inizio Puoi Accettarla A me Mi Amico Eh Quanti Siamo In 7 Guarda Regalo Non L'indiamo Che Come Siamo Io Scrivo Io Sì Non c'ho Telefono Non c'ho Chat Non c'è Niente Vuoi che Te Cui Non c'ho Non posso Sì Che puoi Ma L'ho Non è Ti ho Quelli Manca Poco Ma Allora Ma Chi è Che sei Inbucato Fra Non so Ma Chi è Bro Au Ehi Chi sei Sento Leggo No 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 Ti sa Qualcuno No Oh Regà Bro Lo 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 Ho Geek Ma Chi è Di Ma che sta Su Di Ho Geek Mi metti Lile No Ma mi sei passata visuale Ho Geek Bello A tutti O Geek Ma che Ma mi sei passata Visuale Che Che Schigo A te Forse Perché Ti fai Quei Del disco Che Non La La Non Mi Senti Mi Mi Si Mi Mi eravamo sensibilizzati indietro eravamo sensibilizzati indietro eravamo sensibilizzati per un amore ma che schifo oh torno a giocare vieni al fattoria vieni modello andiamo di solo a dire che figata sta cosa c'è il puntino grosso come non lo so ah si che sta mi sembra anche se non dai il disco tra tutto c'è stato mi reggi quei qua io ho c'ho il 40 di picca eh? un 40 di picca che pietra? dai 30 ai 40 ai 50 da chi tanto? devo impostare la grafica perchè se metti lo levato c'è un 40 di fps ah che cazzo metti le vado a fare che più carino ok oh no ok no 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 ok 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 c'è ok no riasci di nisi se vuoi no 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 ciò di dritta bianco metri i terreni per il canale no 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 faccio io per questo dai ritorno guardi sentate il mio minuto eh ho fatto una o io sono tra l'aradio questo come si chienava da un te a me non voleva essere uscito ok io meglio il tappio però ormai con questa tigione è un tappio no eh ma c'era guardi una bella cecchina ma lo sai che ti sei sentato nel mio giusto tu sei sentato nel mio no oh sei sentato nella mia hobby non sono intanto la tua ti hai capito in quale lobby stiamo nella mia o nella tua ma che bordine nella tua eh è è sono tutti nobbi però si è la gente non ha mai guardato il mio compagno per questo l'uomo 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 uscito le grandi scuole io ti dico che c'è gente d'arri sceglie anche ma gente non fa niente dai c'è una delle amiche bella ma io vado io devo giocare a noi c'è guarda dove vado 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 l'uomo 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 c'è chi non bravo uscire gentilmente hai detto parlava russo ai caroci no a youtube cercare esci e' tra i miei terri il video il polio il terreno percorso viet perché l'uomo fin fin questo l'uomo l'iter e' l'uomo tutto il il quando è fatto il salito l'uomo 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 aspetta grado stanno sparando no si io ti sto con camionati ok si sta per chi spara alzi le mano va 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 così lo trovi bene ragazzi, se prendete gioca insieme a noi mi raccomando i dirgioni trattino ride dai dietro, andate andate no banone non vede dove sta eccola dai colpi cieco si si a me li fa va aspetta ci stavo molto lontano dammi 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 colpi cieco dammi colpi cieco c'è sta un'altra c'è sta un'altra che è? aspetta ve lo... madonna anzi aspetta oh ma dove vado a push on madonna madonna ma che c'è ma no si regalci in chat se quello c'è la mano ma da te santa colpi cieco non è così è vero c'è nooo me l'hai rubato in un modo fantastica bec bec questo è il mio portiere io ho capito io ho appena di scelte portate le granate so che sono 3 digretti questo kd è easy facciamo creativa dai ti mando da me ti mando da me se ne ha regalito io ho pure impostazioni che non sono le mie regalizioni quindi asciate verde c'è la sensibilità che è oh da dove da da la su attenzione attenzione muoviti 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 lo vedi se lo faccio per aiuto lo vedi? se lo faccio per aiuto oh ti devi sempre muovere madonna io fammi 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 dammi 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 c'è pure il messire vabbè 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 madonna io 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 non vado a pushar non c'è uno mio non ci rinocca amico si no ma non riusciamo eh ma nra parà ma questo c'è da dove no lo scuono no lo scuono no lo scuono oh del lato pure ah si del lato non ci intero da giù poi ne abbiamo vatti da giù madonna si non sono in corso non lo scuono ci buscano ci buscano non materiali non mi possuisce c'è il materiale eccolo no 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 si 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 non ci vedo ma l'hai fatto vedere mi hai fatto vedere mi hai fatto vedere mi hai fatto vedere chi ha fatto vedere mi ha fatto vedere a me pure mi ha aumentato la sensibilità di poco perchè si ha aumentato di pochissimo e' la perfetta no arco di rischio ora mettiamo 16 16 ok perfetto allora prepara prepara raga 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 raccomando che cerchiamo forse per tutti vi apriamo a tutti vi apriamo posso fare squadra altri due ragazzi facciamo attorno facciamo una volta a due a due a tutti i i i Questa si sta a rompire, ci sta la... Autolina. Ah, sì. Da al portale. Non ci sta. Non ci sta. O non è messa? Non è messa, no. Però no, c'è il mio domani. C'è il mio. Un po' è tutto il mio. Non ci sta a rompire. Tutto. Non ci sta a rompire. Un po' è tutto. Non, non ci sta a rompire. Non ci sta a rompire. Non ci sta a rompire. Ho, la. o io mi sento solo dalla live e grazie per quello che sono intenzionali da fronte su forne lo sceglie di esattamente io mi vedo io mi vedo io vado di qua c'è nessuno veramente ti prego ti prego ti prego ma la mia luce c'è 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 una distanzione ma vabbè ragazzi vabbè ragazzi gioia oh slash e e e e e c'è una persona lo faccio col cotto 2 persone o cacchio e guardate dove stai e ma non sono stavolta stavolta un po ok è normale stagliare 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 i i i i i i i i n e i r s g s s ok e io i 307 non so non so persone non va a risparare con un cacaca carava vero che non ti tolgo un botto di vita non l'automira peggio dei dei voto ai vecchi tempi allevuti scambiosi fanno schifo fanno dietro stare se lo stai scappa 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 vieni da me ciao cd lo speci scendono ma l'ora quasi preso voleva non lo sai la lega mi raccomando scrivete la campanella regali dici se vi piace che facciamo si 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 chiama fuori non si farà ma non sono fuori perché se gli rompi normale no si si chiama rimane da tali bene bene il solito di solar anzi sia che che ha piato cittadino No, te pedemo, te pedemo, te pedemo Abra, abra, abra Adio, adio, adio D'abbiamo qui, abra Poi sollezare un peline Ah no, rompo il tuo ruolo Perchare un peline, no Perchare un peline Oh, non è neanche due Restore un pelino Perchare un pelino Oh, hai già del pelino? Ok. Lei è giusto, hai giusto, hai giusto? Si, che puoi il resto Gatti, perchare un pelino Adio, non ti wzi Ah, non puoi Non lo so, non andiamo in acqua Si, mi sa No, ci sono lontano, non puoi Ah no . c'è un piazza guarda a te guarda ma . no no se riuscite mettete certo di gioco vieni in barca si tratta di sabbacca grazie a me quando il gioco rai a tutto in basso sei pronto dai 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 tuppi oh gente si è nato frazi è passata l'acqua oddio frazi è passata un po' l'acqua cosa sta succedendo E' vero, l'altro mi fanno. Ecco lì, ecco lì, protection. Ma non è nessuno, lo suono. Eccolo, eccolo. No, no, non ho neanche, non ho neanche. Vai, vai da lì, è fazzito. Assi, ho tutte le mani per farmi di me. E non è nessuno che c'è. Vieni in me, vieni in me. Stai a vedere. Ma c'è? Cosa vuol dire, vieni con me. Sto venire, sto venire. Eh, si guarda da stare. No, vabbè. De, non dovrà. Sì, vuoi dire, raga, dura, mi faccio. Siamo morti. Ok. Perché non c'è. Cioè, io non c'ho, non c'è un biomaterialistico. Oh, ci serve quello con l'appino. Oh, oh, oh. Non c'è, non ho materiali. Non ho materiali. Ah, aspetta. Stai bugato, mi guarda. Non è una bugata. Uah! Ma che fare? Si, guarda. Non c'è. 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 Però ci sono colori, sono colori. Non c'è, non c'è. No, no, no. non è un bot non è un bot è un bot levati dove sono andati con il colerio che fate ci servono quelli di coleri dove stanno? non so potrei arrivare da 100 ragazzi di meno 5 molti che scrivi tu lo stanno non lo so ma cosa sai tu? vieni qua vieni qua vieni qua no no chi di più là vieni qua vieni qua vieni si io c'ho già 15 vai dire adesso non me ne vieni qua perché andavano indietro questi sono studi grazie non stanno su quelli nell'emcorso dai dai quelli ci servono io non ammazzo Spera! 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 Io c'ho 0! 0! Ma mi scava la panna! E che va? È sceso! Sono dei bot! Dei bot! Un po' di maia! Alla prossima! Puoi! 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 io li vado a dove vai dobbiamo rimatterare si 266 vai eccolo eccolo no 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 c'è altra gente io si no 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 dai vai 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 oh cazzo ma buttali no 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 è così tanta vita che 4 5 ma scusi il domenico da lui da no 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 c'è 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 dubbio la carica che sarebbe giampini dobbiamo pari a c'è non posso lasciare chi lascia ma c'è qualcosa non ci termine c'è 5 ma 6 c'è con piccoli e qualsiasi che cosa non è sta sopra sta sopra di vado io sopra eccolo a i 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 산 i i i i la l ia boa un po' un po' si mette se si tolglie qualcuno me lo vingate? perchè non ho bisogno di suono ragazzi come stai andando a farlo? guarda regà Roberto cosa... che cosa sono le supe? sono... in iscrizione ragazzi in iscrizione ho 15 minuti quindi neanche con vostra madre il vostro padre torci non c'è solamente uno non c'è nessuno che cacchio ti giuro ti giuro ho usci il lino grazie mille io non c'ho un lino questo stanno città mi spavano ancora non c'è nessuno ma il gente trovi che è contentato no ora no non c'è nessuno che è il best place che è il best place non me la... oh chi è che me l'ha fregato madonna bullo si torna a vendere i panini dai neanche si muove c'ho c'ho due tanti mesi dai dai le ti 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 No, 17 lì la mia mafia Grazie Sì e e e e e e e e Alla ragazzo io messia Grazie. 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 Dai, dai, dai. Ok, dopo di anima a Kevin. Sarà il mio compito, ragazzi. Giuro che lo rianimerò. Aspettate che ha fatto. Mi sono messo male. Mi sono messo veramente male, raga. Oh, dove sta l'NL? Oh, dove sta l'NL? Aspettami, bravo, ciò che viene di kit. Mi sa che stai rianimando Kevin. Ah, ecco. L'hai rianimato. Dove devo andare? Arrivo, arrivo. Allora, arrivo. Sì, ragazzi. Ciò mi chiamo... Soccolo. Icidono di domicili secondo. E' ero. Oh, è vero, è vero. Sì, ragazzi. Chiu, ragazzi. Allora, regà, allora, regà, regà, tutte le sono cercate, passa, 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 comando tutte e due, tre, 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 tre Sì, te l'ho fuorito io. Io avrei giocato, io avrei giocato per te. Anch'io che avevo giocato contemporaneamente stavo a giocare. Vai ce la fai, ce la fai. Ma dove sei arrivato? Cosa? Hai preso la barca? No, è rimuoto, abbiamo preso la scheda e abbiamo rianimato. C'è un'arma. Oh qua c'è un ciclone se vogliamo andare lontano eh. Dov'è? Dov'è? Arcanini. E' la vedamina che scelto? No. Vedi? Domani vedi. Poi c'è un ciclone che è? Un ciclone. Guarda. Guarda. Ah no. Mi sparano. Dov'è? Sul cieco. Da te? No. Guarda. Non li vedo, sì. Ma sono i ciclone. Sei bot, sì. C'è un medic. Chi ha? Gli devi dare colpi di R. Colpi di R. Eeeh. Quali pezzi sono? Ah, è quel. Vabbè, continuo io. .. Fina ai 7, è tardissimo ora. Eh? Non fino ai 7, è troppo. Non lo so, no. Io qua, te. Rega siamo il 9 però. venite allora rega mi raccomando voi dai colpi piccoli colpi piccoli colpi cerco colpi cerco tutti no sono morto ok pensiamo 7 solo 7 siamo noi contro l'acqua di mano oh vai come si vende il pesce? devo prendere la mano vai bravo me lo dai dopo me lo dai dopo mamma te li havi vai guardi adesso ci vediamo qui e poi mi piace grazie le amo oh ma te vuoi? vabbè mi ha dato 100 pensavo di più vabbè piadami no 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 per me no vabbè no cosa? per 3 di voi che sai? oh cieco cico cico io abbeso che te lo vado per uspiegare 200 200 1 2 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 14 15 15 13 15 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 21 21 22 mi dà mi dà mi dà mi dà ma non mi dà rimani rimani se sei un guerriero rimani Dario Dario rimasi un secondo un secondo fanno il minimo no dai che schifo l'odiente un secondo ci abbiamo vinto dai basta dai staccavo ho fatto 8 minuti non dà ma non giù hai qui vince 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 lo fanno utile passi fa un po' legati no? vai erika fa un po' legati no? oh come stiamo cercando se c'è un proteanico mamma mia è fastidio erika quando le voglia questo non ce l'ha vabbè è insopportabile sta scimmia non ci sarei non ci sarei andai da voglia e ora tutti non lo volete? non lo volete non lo volete non lo volete mi mettevo di sotto non lo so non lo so non ci si esiste nel tuo tuo fondo boh 10.000 no troppo no? 10.000 madonna forse un po' di meno no 10.000 per me 10.000 ma che sta messo? ma che sta messo? ma che sta messo? che cazzo perchè è duro? che cazzo ma sei un tappo ma va furbata sono un po' cinesi queste cose si vede proprio no però pure è anche di essere cinese vuoi venire o... non lo so non l'avete messo dove sta? no viene ma che st,- da sal裡 30 secondi 10 mi ha ucciso dai che credo no dai che hai la prossima gioia no adesso bot lo spammone bella rega bella rega st attivate la campana devo imparare a giocare perchè non lo so fare questa sera mi rodo perchè si è rovinata per colpa di dario per colpa di dario è il cubano è 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 C'è ti fai tanto Ti so forte No, ti fai quello non a noi Fammi sparire Tutti da me Mannaggia la troia Quanto manca? 50 secondi Vai Raga è finita Raga è finita Non ci voglio credere Abbiamo venito ragazzi In modo eleggiativo Vero ragazzi Le mie tre vittorie royale Le mie quattro vittorie Che cacchia di fa? Mi riforma e parla E quindi ragazzi Siamo veramente contenti Ciao bro Abbiamo finito la live Di più di 32 ore Niente ragazzi Noi ci becchiamo Alla prossima live Adesso ragazzi dobbiamo andare Ma non scrivevo Io ho guardato la live da un'ora e mezzo Però non scrivo Bella raga Ci becchiamo ragazzi Nella prossima live Grazie mille raga Sarà messa mai Ci becchiamo Ci vediamo Bella a tutti ragazzi Bella Bella Ciao 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 Ciao